Buon pomeriggio a tutti, buon Zugu pomeriggio, 17 luglio 2023, siamo qua, siamo pronti, siamo carichi, ue ma anche ue, bentornati in un nuovo episodio del Zugu talk show dello Zugu verso, oggi, 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 ci sono troppi argomenti, io già ve lo dico, ci sono troppi argomenti e sicuramente qualcosa verrà palestrato, e semente schippato e rimandato le prossime volte, oggi parliamo del clamoroso, gigantesco sciopero che sta bloccando Hollywood, tra sceneggiatori di cui avevamo già parlato nelle scorse settimane e adesso anche la giunta degli attori, parliamo degli ultimi due episodi di Secret Invasion, dato che avevamo saltato una stream la scorsa settimana, parliamo degli ultimi trailer usciti nel corso degli ultimi giorni, tipo Wonka, tipo quello di Napoleone e via dicendo, parliamo delle foto di Wolverine su Deadpool 3, parliamo di Mission Impossible 7, parliamo degli annunci su Superman, parliamo delle foto di Biancaneve, questi dovrebbero essere gli argomenti di oggi, saranno quelli che verranno effettivamente trattati? Dubito, perché penso che non ce la faremo a livello di tempo, però queste sono le nostre intenzioni, ci proveremo, ci riusciremo, solo nel finale lo scopriremo, detto ciò aspettiamo i primi ospiti e ci lanciamo. Formel Bob Bob? Va bene, va bene sì Ciao Rob Ciao Ho visto che anche tu hai avuto una bella vicissitudine col Corriere, è successa la stessa cosa quando non v exclusive la PS5 Ah, meraviglioso, racconta un po', cioè, che cosa è successo a te? Beh, allora, l'avevo presa perché me l'aveva segnalata proprio la chat quando hanno aperto i preorder, mentre ero in live su Amazon l'ho comprata proprio al day one e l'aspettavo il giorno stesso non è arrivata perché il corriere ha detto che ha tentato tre tentativi ma col cazzo ma che tema manca una volta se la sarà rubata no mi è arrivata il giorno dopo però secondo me arriva troppa roba da portare non aveva sbatta perché nella mia zona non c'era nient'altro e allora ho utilizzato la scusa del fatto che non ha trovato nessuno no perché considera che delle volte è successo e a me l'hanno raccontato in chat ai tempi tra l'altro della PS5 che è introvabile come quella che dici te era tipo un pezzo raro quello che ti stava arrivando alcuni corrieri si sono fregati la PS5 e non è mai arrivata però Amazon non la può rispedire perché non ci stanno e quindi ai tempi capitava che non infatti ho avuto un problema con Amazon a questo proposito perché non so se lo sapevi ma quando compravi la PS5 al day one c'era la grande possibilità che DualSense avesse un problema di drifting e anche dei molle dei tasti dietro e quando io ho fatto la richiesta anche questo l'ho fatto in live perché mentre stavo giocando con Clonore Mastered il pad mi è partito ho aperto ho condiviso tutto la schermo in live e ho scritto l'assistenza di Amazon la cosa e mi hanno detto che loro non potevano farmi il cambio perché non ce l'avevano lo avevano ma io l'ho comprato insieme alla console e non avevano un'altra console da darmi non potevano darmi solo un pezzo dovevo restituire tutta la console col pad wow allora mi hanno detto di rivolgermi a Sony io ho scritto a Sony sempre in diretta e Sony mi ha detto che non è assolutamente così e che dato che l'ho comprata l'ho comprata da Amazon ed era ancora nei primi 12 mesi era da Amazon che doveva risolvere il problema ho fatto uno stampo della mail di Sony l'ho inviato ad Amazon e mi hanno fatto scegliere il DualSense che volevo io anche se costava molto di più del prezzo in un DualSense normale proprio perché è Sony che si è messo in prima fira veramente dei brutti ceffi tipo questo guardalo eccolo ciao 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 super brutto ceffo incredibile allora Tiziano tu sai che marcherai male non posso dire niente tu sai di cosa sto parlando quindi che? tu sai che? marcherai male sai di cosa sto parlando non possiamo dire nulla marcherò male che vuoi dire con marcherò male? finirai male non si dice a Roma marchi male guarda che marchi male caschi male anche marchi no marchi non l'ho mai sentito perché cosa vorresti dire scusa? niente 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 ci aggiorniamo un po' c'è un progetto segreto in sviluppo? non ti preoccupare ok non ti preoccupare era per sapere ok va bene va bene e invece a me quello che è successo roba è che io ho ordinato una tv dal prime day per la camera da letto mi doveva arrivare giovedì questo qua che doveva cioè giovedì tra due giorni l'anno antico oggi mi è arrivata la notifica no no arriva oggi e non possono farlo perché ci deve essere comunque la certezza che ci sia qualcuno in casa per gli oggetti di grosso calibro quindi non posso anticipartelo senza il tuo permesso già questo non è vero e comunque io ero convinto che la consegnassero oggi ora sono andato a vedere perché ho detto ancora non l'hanno consegnata vado a vedere ordine annullato il cliente ha rifiutato l'ordine ti faremo il rimborso il prima possibile mai nella vita aveva voglia di consegnartelo oggi no invece se quello è successo a Kalel aveva ordinato tipo del ramen e gli hanno portato una tv da 65 pollici 8k ottimo le fortune le fortune no più che altro se me quando succede così tu mi dici che non sei riuscito a consegnarlo va bene ma fammi la foto a casa fai la foto a casa per dimostrare che tu sei venuto qua sotto a suonare senza la foto per me tu spari cazzate è quello il punto in quel caso là voglio vedere che cosa dici cioè a me va bene che tu mi dici qual era il corriere che doveva portartelo per caso poste italiane le grandi poste italiane i migliori corrieri della nazione cioè mamma mia veramente ti giuro dovrebbero eliminarli dalla faccia della terra non capisco perché amazon si affidi a loro ancora cioè ma usate qualsiasi altra cosa tutto costa poco è quello il globo è meglio ti giuro qualsiasi roba non ha non ha non ha senso non ha senso te andrei invece hai avuto qualche vicissitudine ho comprato lo spurzino per il bagno mi hanno dato il multiuso è arrivata una bottiglia spaccata e ho messo la story sull'altro giorno a meno di instagram eh? sì e che cosa è successo quindi scusa? niente devo prendere tipo una confezione mi ha fatto prendere Paola di 12 spruzzini per lavare il bagno e mi è arrivata tipo una bottiglia del sei tipo il napisan che spruzzi per pulire so che te ormai vi da solo queste cose ancora non ci sei arrivato è arrivata con una bottiglia era rotta e apparentemente quando ho aperto la scatola l'altra scatola era completamente zuppa e mi sono fatto rimborsare 12 bottiglie vabbè ci sta la scatola era zuppa un pochettino come quando io guardo Mark ciao ciao Mark come state bene oddio è cambiato aspetta allora parliamo Mark vedo il felicottero quindi questo è un lato positivo aspetta fermi tutti voglio farvi notare come si è in ombra tutto tranne la parte degli occhi che è illuminata Mark se metti attivi tipo quelli purtroppo se chiudo la finestra mi ammazzo ragazzi quindi non posso non posso fare è la finestra che mi fa un po' un villain è presente tipo a We Met Your Mother quando fanno il capitano che fanno sì esatto è vero qua devo sistemare metto così va bene ma guarda per me il felicottero ho già fatto tutta la postazione quello l'ho fatto apposta per te quello è lì in mezzo proprio per te ma tra l'altro era tuo era tuo non era tuo no lo hai requisito l'ho requisito un attimo non è mio tecnicamente non è mio mi sembra mi sembra una cosa più che giusta assolutamente sto crepando di caldo ragazzi penso un po' tutti comunque volevo iniziare quest'oggi in modo molto tranquillo in verità parlando al volo dei trailerini che sono usciti in questi giorni tipo ad esempio Wonka l'avete visto? sì 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 e vi piace? allora lo trovo molto vicino per alcune cose al al Willy Wonka di di Johnny Depp ok perché comunque anche no le battutine alcune 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 frasette che dice l'ho visto un pochettino simile a quello di Johnny Depp ma come l'atmosfera mi ha ricordato anche quello vecchio vecchio come se stessero facendo una via di mezzo tra i due ma mi ha un po' incuriosito ma anche un pochino cringiato non so bene perché devo capire cringiato che è la cosa più una delle cose più brutte fatte in CGI sì quello sicuramente ha aiutato a rendermelo un pochino cringio però non era cioè non totalmente cioè mi ha comunque incuriosito per cui penso lo guarderò cioè sono curioso comunque sia e vedremo vedremo non lo boccio aspetto posso dire che per me ho visto tanti l'hanno già bocciato per me è uno di quei reboot di cui non se ne sentiva il bisogno sinceramente questo sicuramente quello con Johnny Depp mi sembrava ancora abbastanza fresco e poi cioè la fabbrica di cioccolato non è che sia mi sa che son crashato vero eccoci ciao amici noi siamo guardati importantissime importantissime è un discorso incredibile di market ma che cosa è successo perché Vic ovviamente si era perso tutta la questione è spawnato Victor sì è spawnato Victor mi si sente bene mi si sente l'audio non sarà perfetto però mi si sente sì sì no va bene va bene tranquillo Vic mi ha crashato il computer sì se no provo a mettere le cuffie ma non so quanto migliore eh boh non lo so onestamente no ma oh secondo me va bene se non è un audio schifoso no 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 va bene va bene e allora stavamo dicendo Willy Wonka non so io sono arrivato al momento del cringe dopo il cringe è crashato tutto per quanto mi riguarda hai sentito quando ho detto che secondo me era un reboot e di cui non ce n'era bisogno ok quella è l'ultima frase sentita tipo ok beh l'unico parere che conta basta quindi questo è un po' essere l'argomento totale no vabbè posso dire che al di là di quello che ha detto Andrea che è giustissimo cioè secondo me è proprio una di quelle robe che cioè mi chiedo se effettivamente abbia cioè io capisco che lo fai per i soldi perché c'è la tendenza di fare di riprendere franchise però non mi sembra un franchise così è quello che avevo detto infatti ho fatto due film a parte Timothee Chalamet cioè perché uno dovrebbe strapparsi con i capelli di andare a vedere il terzo reboot il terzo film su Willy Wonka con la stessa storia perché è un prequel però sono d'accordo perché ti presenta la gioventù è una cosa che prima sì però però ragazzi è neanche un prequel in realtà perché è un mischione delle due versioni quindi non è neanche il prequel di quello degli anni 70 o il prequel di quello di Tim Burton cioè capito nel senso no no certo non è che si connetta a quei due direttamente cioè però però ti fa vedere cioè ti fa vedere lui tipo che fa le sue ricerche per inventare poi i primi cioccolatini e tutto che lo spiegavano anche in quelli giorni di tempo ma era stranaccio sì ma poi tra l'altro cioè secondo me il punto è un altro io non ci vedo Roald Dahl cioè è tratto di Roald Dahl ok Roald Dahl ha questa caratteristica un po' particolare di essere molto cinico e a tratti anche cattivo per essere un autore di libri per bambini è vero che voglio dire nella fabbrica cioccolata ci sono dei bambini che vengono praticamente torturati per dare un insegnamento morale al lettore quindi io in questo punto ho visto solo la magia l'atmosfera per bambini ma non ci ho visto minimamente quella di cattiveria se ci pensate il film degli anni 70 aveva quella scena tunnel che ha traumatizzato generazioni interne c'è la scena del colpo che resta per essere un film per bambini è una roba abbastanza insomma cruda se vogliamo io di quello non vedo nulla vedo questa atmosfera anche all'Harry Potter se vogliamo è una roba molto 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 poi sì c'è questa cosa del cartello del cioccolato che può anche essere carina io una cosa la devo dire io ritengo Timotice spaventosamente suprvalutato o fa sempre lo stesso cazzo di ruolo anche se non dovrebbe essere lo stesso cazzo di pazzesco c'è sempre la stessa non recita è se stesso appunto è come The Rock che non recita è sempre lo stesso personaggio qui è lo stesso personaggio di Dune di Bones and Doll di The Fragi Dispatch con i mesi di Willy Wonka è vero è vero però diciamo che c'è anche margine di miglioramento per l'età diciamo sicuramente è giovane sono d'accordo però che molto è bellino e tutto quello che ne concerne è quello sì 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 lo vorresti quindi vai vai Vic no voglio dire che per me è un 3 a me è un 3 che non ha detto nulla cioè l'ho guardato e ho detto l'unica cosa simpatica è Hugh Grant come un palunfa ma è una cosa che si sapeva già dal CinemaCon se non l'avessero detto al CinemaCon allora magari mi sarei sorpreso di più però come dicevo prima Hugh Grant è stato è stato il momento in cui ho detto ho riso ma ho anche cringiato e quindi è per quello che prima parlavo di cringe perché non ho capito se il film mi abbia fatto mi associo mi abbia fatto un po' più di imbarazzo o di curiosità non lo so è su me Yumpa Loompa tipo ad esempio anche di quelli di Johnny Depp boh funzionavano un po' di più visivamente lui è perché ma poi era un signore grande sì 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 che interpretava Lumpa Loompa in quei giorni qua è una sorta di deformazione sì è lo stesso con le croniche delle croniche di Narnia quello l'attore con con l'oplasia era un attore molto cattivo come faccia molto sempre incazzato era figo però questi sono Lumpa Loompa del film sono Lumpa Loompa del film con Gene Wilde questa cioè la pelle arancione il capello verde il flautino la stagione ma è un film che è un film che secondo me vuole prendere un po' tutti e due i film in qualche modo vuole accennare un po' a uno un po' all'altro quindi vedremo sì sì assolutamente sicuramente non ce n'era bisogno questo siamo d'accordo tutti cioè nessuno chiedeva un nuovo film o un prequelo o un approfondimento ma se c'hai i poster di te Mark guarda quella marrone non è una tavoletta di cioccolato dietro di te guarda quella è gigante c'è la scafola di Slam no dietro di te quella è un'altra cosa c'è da dire che arriva in un periodo in cui ha solo Aquaman come concorrenza non ci sono grossi film a Natale che una di aspettatori cioè non penso uscire a nittà così però è un po' più sì ah vabbè ormai è girato quindi in teoria eh ma stavano in giro a livello di marketing però molti volevano spostare le uscite perché non potevano fare niente col cast soprattutto quelli che avevano le presentazioni alle varie Venezia Cannes quello che arriva da qui in poi però Andre qui a da qui a Dembre secondo me lo sciopero qualcosa succede qui si risolve vai parliamo del secondo grande argomento di oggi anche perché sì lo sciopero lo sciopero di ad Hollywood degli attori che si sono uniti agli sceneggiatori e vai se vuoi continuare te Vic che stavi già parlando ecco qui ecco qui a posto pollicione un attimo un attimo di ventennio è scappato queste sono tipo che ne so Disney però si è detto tu non puoi parlare sennò non lavorerai mai più con noi cioè proprio fucilatissimo in modo in modo assoluto e per recuperare l'ultima cosa tu Rob hai detto qualcosa su Wonka ma ti è piaciuto? no non ho detto niente il trailer a me ha incuriosito piaciuto no perché anche io come gli altri non ne sentivo il bisogno hanno detto che questo almeno stando la sinossi ufficiale americana è l'inizio di qualcosa si sta addirittura pensando a un'ipotetica trilogia anche perché contro ogni aspettativa questo film costa relativamente poco quindi anche se dovesse fare poco per Warner non è un problema l'unica cosa che a me ha veramente dato fastidio è che in tutti i due i film tanto quello di Wilder quanto quello con Depp la magia la sospensione dell'incredolità la portava Wonka all'interno della fabbrica qua anche all'esterno sembra esserci e sembra che tutti siano familiari a questo tipo di magia dalle forze dell'ordine a tutti gli altri ed è una cosa che mi ha dato fastidio perché in un'ottica di un prequel dei precedenti film va a depotenziare i film successivi con il Wonka adulto nell'ottica di un retelling magari di un mondo che ha la magia e che man mano si perde e l'ultimo baluardo di magia era chiuso nei cioccolatini di Wonka stesso potrebbe invece diventare una chiave di lettura interessante quindi è l'unica cosa che mi ha lasciato perplesso la cosa della trilogia non la sapevo e mi lasciano è un rumore mi sembra un po' tanto però beh tieni conto che dovrebbe essere costato sotto i 100 milioni quindi di cui il 99 da Timothee Chalamet ma probabile no ma secondo me dai 200 milioni su li può fare un film del genere sia per Timothee Chalamet che anche perché è un film che può piacere alle famiglie vero The Flash che ha fatto meno di Green Lantern però ad esempio riguardo la questione Chalamet secondo me l'hanno anche pensato a farlo uscire un mese dopo rispetto a Dune proprio perché essendoci magari lo stesso attore vai a vedere uno è gasalata la gente eh capito può funzionare sempre io non capisco c'è però ragazzi c'è va bene tutto però secondo me cioè se il ragionamento è questo non so quanto li possa tornare nel senso che facciamo uscire un film con lo stesso attore un mese dopo Dune considerando che credo che spero che Dune vada bene e ora che esca Wonka Dune credo sia ancora in sala pure secondo me è ancora in sala dopo un mese se la loro se la loro aspettativa è portiamo in sala il pubblico che sbaglia a pagare il biglietto perché vede che c'era a me sul posto no non dico non dico quello con Anciart ed ha funzionato dopo Spider-Man away ma che poi Warner è pazza in culo anche perché fa uscire pure Aquaman non solo anche il colore viola che è un remake di film di Spielberg che si adatta a un musical di Broadway che ha avuto tanto successo quindi Warner nel giro di sei settimane fa uscire tre film e ora come ora io non ho idea se dovesse davvero esserci anch'io sono d'accordo con Vic secondo me lo sciopero si chiude tra settembre e ottobre però vogliono fargli penare l'estate e almeno i festival però se non dovesse chiudersi per allora è una problematica davvero immensa per Warner perché ricordiamolo che in debito di ormai con Flash l'avrà anche superata questa cifra oltre 75 miliardi di dollari e se continua così io penso che tra un annetto altro che reboot dell'universo DC molto probabilmente va sul mercato e qualcun altro l'acquisisce io lo acquisisco dici tutto a Warner io concordo sul fatto che non sono favorevole a come stanno gestendo le cose nella DC al momento attuale poi Warner in generale come dici te non è che sia la più grande strategia far uscire sei film uno dietro l'altro dai un minimo di tempo perché poi capisco pure che magari siano film diversi che ne so Wonka e Ackerman o come anche come si chiama questo il colore viola il colore viola che mi ricorda avevo visto pure il trailer saranno sicuramente dei film con generi diversi uno magari è un supereroe l'altro una storia fantastica diciamo e così via per famiglia però comunque l'azienda è la stessa i giorni sono quelli cioè la gente poi deve fare una scelta è lo stesso discorso che poi c'è anche con i videogiochi quando fanno uscire i videogiochi tutti insieme è innegabile che te deva fare una scelta come adesso no magari anche se ora c'è stato un po' di spazio però cazzo a giugno hanno fatto uscire una marea di roba giugno-luglio e tuttora adesso esce Barbie poi dopo un mese esce Openheimer ne sono tanti è una scelta particolare sicuramente perché appunto non è neanche una questione tanto la gente non lo sa che è sempre Warner cioè il punto è proprio che è che comunque la gente magari va a vedere un film al cinema una volta non è che va tutto il mese non sono tutti appassionati grandi appassionati quindi non sono tutti ricchi come Tiziano Tiziano ma che dici che vai a mille antiprime uno dopo l'altro l'altro giorno stava là ma devo al il coso dei drink la volta prima ma perché sono invitato infatti è l'ora di che ti lamenti scusami cioè questa è l'arte dello scrocco che mi ha insegnato Kalel non è la ricchezza la ricchezza vai e compri tutto cioè ti dai un tono e basta esatto ok va bene e mentre attendiamo Vic per il ritorno sul discorso per iniziare il discorso dello sciopero per quanto riguarda invece il trailer di Napoleone ti è piaciuto? io ho visto soltanto la foto ok quindi non saprei è letteralmente una fresco che prende vita concordo pure a me è piaciuto veramente un botto quello di Napoleone a me ricordava un pochettino se cosa i trailer di Assassin's Creed e con tutti nel senso cioè questo penso sia il miglior complimento che abbia ricevuto Ridley Scott in tutta la sua vita per me è una cosa super positiva dire questa roba sia chiaro i trailer cinematografici di Assassin's Creed tipo eh lagga un po' è tornato Victor Lago raga Victor Lago è bello secondo me invece ha capito perfettamente è rimasto così è sconvolto non so se te ci senti se non mi sentite voi ora si no no che cazzo stavo guardando al volo eh il trailer eh no dicevo dicevo per me è in senso positivo a me piace Ridley Scott ma dicevo come cosa aggiuntiva vedere fatti in un certo modo molto molto d'effetto a livello di riprese di vedere tutto l'esercito e tutto e ambientato in quelle epoche lì non è una roba che viene fatta molto spesso nel senso non è che siamo abituati a chissà quanti film ehm ambientati durante le guerre soprattutto grandi film magari con un grande budget ambientati durante le guerre di tanti anni fa e il fatto che ci siano comunque tante comparse fisiche a schermo anziché ricostruite in CGI fa anche la sua porca figura secondo me è proprio un colossal come non capitava di vederli da tanto perché loro hanno speciali hanno proprio specificato che gli effetti visivi la CGI è stata utilizzata nel minimo sindacale tutte le comparse che vedete a schermo sono effettivamente attori in carne ed ossa e se ci pensiamo nelle grandi produzioni non siamo più abituati perché vediamo spesso dei shot delle panoramiche con un sacco magari di eserciti di combattimenti però sono quasi tutte rifatti al computer invece tornare anche a questo a me è piaciuto eh esatto soprattutto considerando soprattutto considerando il casino che è successo con la cosa degli scioperi che era due giorni dopo il trailer hanno riuscito fuori che volevano sostituire tutti con la gente fatta con l'intelligenza artificiale ah mia io ho guardato adesso al volo il trailer e capisco cosa intendeva Tiziano perché ricorda molto effettivamente il trailer del 3 secondo me anche Unity anche Unity perché c'è la Francia mi ha ricordato sì un po' anche Revelation più che altro la fotografia di alcune cose però sì ho capito cosa intendeva sono dei bei trailer quelli che qui no 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 ma non è nonostante Assassin's Creed per quanto mi riguarda sia una merda gli ultimi ok non stiamo qua ad approfondire per insomma i miei motivi per dirlo e le Cinematic sono sempre fighissime i trailer Cinematic sono sempre fighissime infatti se tu lo rivedi con l'audio di Wood Kid Run Boy Run sotto e Assassin's Creed praticamente Scott ha appena tolto il pollo volevo dirlo eccoci qua ci ha ci ha abbandonati ci ha abbandonati così e te Andrea invece hai detto che ti è piaciuto sì 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 no no a me è piaciuto sono abbastanza vado abbastanza sulla fiducia con Scott mi sono piaciuti abbastanza tutti anche House of Gucci che vedevo si era preso un po' di merda da Guido adesso in chat a me non era dispiaciuto così tanto e poi no anche a me ha colpito un sacco la questione appunto come ha detto Rob delle comparse della scenografia che è una roba che come tu sai perché l'hai letto ieri per deviare un attimo riscrontato mi è piaciuto un sacco per esempio su Silo la serie di Apple TV che è una di quelle che ero guardato ha detto la storia per quanto sia roba già vista comunque a me ha proprio affascinato dal punto di vista della scenografia che vedevi che avevano ricreato tutto in minimi particolari poi tra l'altro ho visto su quello ho visto tipo uno speciale e quando c'erano per esempio le reliquie per chi l'ha visto che erano imbustate effettivamente anche se erano piccole nel fondo c'erano le calcolatrici tutte le cose quindi secondo me in un periodo dove la CGI sta iniziando a essere stretta a molti sia allo spettatore sia anche agli addetti ai lavori tornare su alcune produzioni così massicce con così tanta poca uso di CGI sarà secondo me un gran bene infatti per questo motivo aspetto tantissimo Oppenheimer dato che quel pazzo di Nolan ha fatto una bomba nucleare reale ha detto che non ha usato CGI per niente praticamente eh sì concordo concordo con te a me dispiace come hai detto te oggi che o c'era nei tuoi commenti c'è un dubbio il fatto che comunque in Italia l'abbiano rimandato e non ci facciano vivere il vero bar barbie nimer come si pronuncia barbie nimer sarebbe stato molto molto bello ma perché purtroppo è una cosa che ultimamente un po' meno ma se vi ricordate l'Italia il periodo luglio-agosto era la morte totale di ogni cosa al cinema cioè io mi ricordo che quando è uscito faccio sempre confusione tra il primo e il secondo Guardiani della Galassia che usciva nel periodo d'estivo in Italia l'avranno fatto uscire poi a settembre e c'era stata l'anteprima stampa tipo a giugno il primo infatti ero con Guido cioè vabbè visto il primo Guardiani tre mesi prima rispetto all'uscita all'uscita in sala perché adesso va bene un po' meno ma solitamente in Italia dicono vabbè la gente va al mare non facciamo uscire nulla luglio-agosto e sì sì è come anche Far From Home fecero la stessa cosa lo rimandarono tipo di un mesetto anche Ant-Man and the Wasp perché in America invece li fanno uscire a luglio da noi invece a fine luglio è tipo no non esiste ma perché il fatto il fatto che agosto l'Italia si chiuda è una roba tanto italiana perché a voglia io lavoro con gente che magari sta in Germania per alcune cose tipo loro non chiudono mai o altre o da altre parti quindi soprattutto in America invece in Italia abbiamo questo brutto vizio che chiude tutto quanto è agosto ciao sì esatto esatto e parlando di mesi o non mesi appunto dicevamo prima e Bic nel frattempo sta avendo problemi tecnici per provare ad entrare vediamo se riesce a risolvere comunque c'è iniziato appunto lo sciopero degli attori che si protellerà per un po' di tempo almeno te Rob dicevi secondo te settembre-ottobre secondo me sì per due motivi il primo è che comunque è vero che la roba che si chiude ad agosto è una cosa puramente italiana ma lo è altrettanto comunque che nei mesi estivi le produzioni tendono ad allentarsi quindi l'idea di sfruttare questo tempismo anche per provare a riposarsi un po' in quel di Hollywood e fosse solo per tirare un pochino la corda credo che ne approfitteranno in seconda battuta anche perché questa cosa è storica e si sia arrivati a questo punto nonostante si sia protratto di tre volte la deadline per la scadenza dei contratti di conseguenza il rinnovo eccetera eccetera siamo arrivati a questo punto e proprio perché la si vuole portare avanti per forze di cose ultimo ma non meno importante ciao Emma stanno formando dietro le quinte due cosine il primo è il sindacato degli animatori e il secondo è forse il sindacato degli addetti agli effetti visivi se queste due cose prendono forma in queste settimane slash mesi questo shop però potrebbe potrarsi molto più a lungo ma più che altro secondo me dipende da che passo indietro decideranno di fare le grandi case perché mi sembrano per accettare gli accordi adesso le uscite che hanno fatto non sono il massimo non è che dici si stanno cercando prima di una vita al momento fino a oggi la situazione mi sembra proprio completamente all'antipodi e lontanissimo da trovare non c'è negoziazione non hanno nessun ammediatore e tutti rimangono fermi sulle loro posizioni in questo momento non c'è neanche la volontà di venirsi incontro perché la paura è che e questa è una cosa terribilmente invece americana prima si diceva una cosa tutta italiana questa è tutta americana quando crei un precedente fa paura perché fra tre anni quando scadrà il prossimo contratto diranno vi ricordate cosa siamo riusciti a ottenere tre anni fa quindi loro non vogliono venire a un accordo adesso perché temono che questo possa creare un precedente per ogni singolo rinnovo e più si va avanti e più la tecnologia sarà ingombrante per quello adesso stanno andando tutti a muso duro perché vogliono tutti difendere le loro posizioni per quel motivo lì evitare che in futuro siano presi per le palle dicevo quello che alla fin fine poi dopo lascio la parola a qualcun altro quello che alla fin fine spaventa oggi Hollywood l'hanno detto proprio i dirigenti in maniera anonima proprio alla stampa in media anche tramite i loro esecutivi è creare un precedente perché oggi si potrebbe anche trovare una via per per formare un accordo quello che spaventa è che se questo precedente si crea e il precedente in America è una cosa che piace tanto agli addetti ai lavori fra tre anni al prossimo rinnovo gli attori i sceneggiatori potranno ancora fare voce grossa in capitolo ora come ora loro vogliono temporeggiare stanno comunque prendendo produzioni europee australiane britanniche medio orientali orientali per provare a foraggiare un altro tipo di mercato e andare incontro al gusto del pubblico in questo preciso momento storico e allo stesso tempo attori e sceneggiatori hanno aperto un fondo per permettere alle persone di donare perché si sta chiedendo di non boicottare negli studios cinematografici nelle uscite nelle piattaforme streaming perché anzi bisogna continuare a manifestare l'interesse nei confronti di quest'ambiente e quanti soldi girino quanto più di condividere la cosa sui social con hashtag mirati e allo stesso tempo laddove lo si volesse magari fare delle donazioni anche simboliche al fondo di sostentamento di autori ed attori in maniera che possano qualora questo show provesse protrarsi per le lunghe perché hanno detto che lo scopo è quello di portarli alla fame di non avere un piatto caldo da servire di non avere più un tetto sopra la testa di poter portare per le lunghe questa cosa e gli sceneggiatori e gli attori si stanno mobilitando con gli animatori e gli addetti agli effetti visivi per far formare dei sindacati anche loro ad essere veramente uniti a 360 gradi se questa cosa nelle prossime settimane slash mesi dovesse avere luogo allora sì che lo show però potrebbe prolungarsi anche perché poi stiamo arrivando a un punto che non so quanto alcuni attori riusciranno a non lavorare e portare avanti lo sciopero perché magari gli attori più grossi tanti sono milionari esatto altri sono magari piccoli attori attori anche medi che hanno bisogno comunque di lavorare e non so quanto potranno fare questa cosa se non sbaglio c'è stato proprio l'amministratore delegato di una qualche major che ha detto proprio una roba di questo tipo di non accettare le condizioni per così tanto tempo che poi la maggior parte degli attori si trovano costretti a dire oh boh perdo casa è tutto quel che è perché non ho soldi oppure devo sottostare alle condizioni delle major è triste da dire ma è la classica battaglia dall'auguramento da attesa silente per poi raggiungere un accordo a condizioni comunque vantaggiose per chi in questo momento è nel torto comunque io non vedo altro che quella soluzione alla fine non c'è purtroppo uscita anche perché dei major hanno qui chiedo anche a Vic anche gli altri hanno almeno un anno forse anche quasi due di prodotti da spendere su streaming cinema e quant'altro un po' meno magari quindi di tempo ne hanno sì è ovvio è ovvio che poi c'è per giocarsela così c'è pure la problematica del magari banalmente puoi fare delle riprese aggiuntive non le puoi fare ma soprattutto il marketing ci sono certi prodotti che senza il marketing non fanno niente capito e quindi cioè senza gli attori il marketing non lo fai con chi lo fai il regista addirittura ci sono eh lo so è andata così non ha funzionato il cambio tecnico voi mi sentite no adesso sì sì finissimo ok allora forse con 4G funziona ah vai ah ok stavo dicendo tu pensi alle volte cosa basta cioè il 4G funziona meglio della fibra visi spuglia ma comunque 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 penso che io credevo che la fibra fosse meglio allora io credo che il punto è che pensate ad esempio al festival di Venezia molti dicono ma perché dovrebbero posticiparlo mica ci sono solo film statunitensi ma non prendiamoci per il culo quel motivo per cui il festival di Venezia e altri festival hanno questa risonanza è perché tra i film in concorso ce ne sono magari alcuni che non sono in concorso ma sono magari le super anteprime tipo faccio un esempio di Killers of the Floor comunque è stato presentato a Cannes sì ok quindi è quello il punto a Venezia se alla posizione quando è uscito il primo Dune fu presentato a Venezia fuori concorso quindi questo crea un grande movimento a livello di stampe e quant'altro se non ci sono film di questo tipo perché non puoi perché sì li puoi portare ma non c'è il cast c'è solo il regista e qualche membro della produzione alla stampa cosa gliene frega il punto è che questo crea un danno gigantesco se gli attori statunitensi sono in sciopero anche se ai festival ci sono film di tutte le nazioni comunque l'interesse della stampa a livello mondano è rivolto alle grandi star di Hollywood ma infatti non ci tipo perché non possiamo c'è stata l'anteprima della Casa dei Fantasmi l'hanno fatta a Disneyland c'erano gli attori hanno messo tipo i figuranti di Topolino eccetera non sono stati molto contenti no non ha senso ma anche perché non sono stati contenti come dicevi te Vic poi alla fine i giornalisti che vanno là che poi magari si guardano il film è tutto però intervistano gli attori chiedendogli qualsiasi cosa ma pubblicizzando il film se l'hai di quella parte lì il giornalista che fa sì ti puoi intervistare il regista per carità sia un regista di spicco ma se no non ha effetto a livello di marchi pensate anche alla moda per i red carpet quanti stilisti vero vero la voglia capisci che se ti arriva la star del film iraniano con un bel vestito alla stampa non frega niente ma per il semplice fatto che quella star iraniana è magari famosa in Iran e non nel resto del mondo dico ho preso un paese a caso per dire un film magari un film che non è neanche europeo per intenderci quindi scusate un secondo che qua stanno facendo anche il casino ok quindi il problema è proprio quello sì ragazzi una situazione terribile il problema secondo me è proprio quello cioè il fatto cioè il fatto che siamo in una situazione in cui il cinema hollywoodiano ormai sorregge tutto quanto non dovrebbe essere così però la situazione è questa pensate anche agli Emmy che sono a settembre se questo showbio non si risolve entro due mesi a settembre mi parla il 18 non li puoi cosa fai gli Emmy senza gli attori e chi si so e va a prendere questo ci fa capire quanto il modello hollywoodiano abbia assorbito il cinema mondiale perché anche quando ci sono eventi che non hanno a che fare solo col cinema hollywoodiano ti rendi conto che ne è comunque lo statura e quindi io poi sono dell'idea che questo showbio io sto leggendo delle cose imbarazzanti gente che dice ma cosa showbio a sta gente che hanno i milioni come se uno guadagna milioni ma perché non sanno la situazione chi dice così esatto cioè almeno quelli in cui mi sono imbattuto io e poi provi magari ad averci un dialogo per come ti rispondono proprio non hanno idea di qual è la situazione reale pensano che sono viziati ma non è quello perché non è che scioperano solo le superstar anzi le superstar scioperano soprattutto per aiutare esatto perché è pieno di attori che fanno le comparse che non sono ancora famosi oppure di grandi caratteristiche che sono sì ricordati per i loro ruoli ma che magari non guadagnano quanto un Brad Pitt o una Scarlett Johansson quindi il problema è questo che si è foraggiato per troppi decenni un sistema malato alla base le piattaforme di streaming hanno solo peggiorato la situazione perché io sto leggendo delle storie tipo uno sceneggiatore della serie di Hulk che si è visto arrivare 300 dollari di residuals alcune peci di Orange is the New Black che hanno fatto il calcolo gli sono arrivati 20 dollari di residuals e uno dei cappuccini di Netflix durante una festa si è vantato lo hanno sentito vantarsi del fatto che Orange is the New Black è stata più vista di Game of Thrones però questo non lo sa nessuno perché non condividono le riproduzioni delle opere e allora cioè la gente dice ma perché si lamentano addirittura la polemica della settimana e questo mi ha fatto veramente piscire sotto la ridere perché sono tante persone ad avermelo scritto però scusami perché mai gli attori dovrebbero prendere le royalties per i film che fanno o anche gli sceneggiatori se io faccio fare un mobile al mio falegname mica lo devo pagare altre volte dopo perché l'ho usato ma che cazzo io quando sento queste cose sono stagenti non mi sembra l'esempio è giusto è così da sempre nell'arte anche perché quando il tuo falegname ti fa un mobile tu non guadagni 600 milioni di dollari in un mese con il suo mobile mi risulta cioè è come dire ma per quale motivo Stephen King si deve far pagare con le royalties lo pagano già per scrivere il libro cioè le royalties sono un modo per una distribuzione equa dei guadagni perché cosa succede che chi l'artista chi fa l'opera viene pagato dalla major che sia musicale cinematografica editoriale un fisso oltre a quel fisso sul venduto tu prendi una percentuale questo cosa significa che la major non ti sta regalando i soldi tu ti prendi una percentuale sul venduto e siccome il venduto nel caso dei film e delle serie dipende al 90% dall'attore che c'è dentro o dagli attori che c'è dentro e a volte anche dagli sceneggiatori è ovvio che se un'opera che ho fatto io e in cui ci sono io guadagna tanto grazie a me è giusto che io prenda dei soldi a quel guadagno non stai cogliendo nulla le major perché le major quel guadagno non lo vedrebbero se non ci fosse l'artista e quindi si fa una piccola redistribuzione non ho capito dove sia il problema su questo discorso su questo discorso infatti volevo salutare mio fratello Michael Jordan che si incassa 400 milioni di dollari l'anno da Nike per le Nike per le Air Jordan però allo stesso tempo le Air Jordan non sarebbero così vendute se non ci fosse il suo nome cioè questo è il discorso perché cazzo dovrebbero guadagnare magari 20 miliardi all'anno per le Air Jordan e non dare dei soldi a Michael Jordan cioè solo per quello che vengono vendute ma infatti io l'ho detto come battuta ma più o meno perché comunque se qualcuno ha visto Air sta roba qui la dicono chiaramente a voglia fino a prima dell'accordo che aveva fatto Jordan con Nike questo discorso sulle royalties sul venduto eccetera non c'era all'interno della parte sportiva quindi come c'è stato lo switch su quel piano per quanto riguarda la ci deve essere anche qui sì in realtà c'è già ma ci deve essere pesato fatto bene sì non puoi avere 24 dollari tra l'altro io ho noto che quando le persone fanno questi paragoni ti tirano sempre in ballo lavori fisici pesanti come se non è cioè per certe persone ma che poi è un po' il problema per cui siamo in questa situazione perché perché le persone non capiscono che non esistono solo i lavori di fisica non esiste la miniera e il metal meccanico cioè ci sono anche altri tipi di lavori quindi è questa la cosa che mi fa ridere e soprattutto io non capisco come sia possibile che le grandi major ma soprattutto i piattaformi di streaming non arrivino a questa cosa cioè come potevano pensare di andare avanti ancora per molto con questo sistema di sfruttamento perché questo è sfruttamento non solo non so se avete visto il video di Ron Perlman mio zio Ron Perlman che la tocca un po' piano che quindi lui ha commentato con una frase però sai cosa quello per assurdo è stato Wubberang cioè tu tu così dai purtroppo il a chi ne è il torto e dire vedi questa non è una cosa non puoi dire no no è vero ha sbagliato ha sbagliato perché per chi non lo sapesse ha fatto questo video che poi è rimosso da Instagram in cui diceva un grande executive un grande dirigente di una major ha detto che questo sciopero finirà perché prima o poi le persone che lo stanno facendo perderanno la casa avranno bisogno avranno bisogno di lavorare che diceva ci sono tanti modi di perdere la casa motivi economici vari motivi oppure sapere chi ha detto questa cosa perché tanto lo sappiamo tutti chi l'ha detta e dove vive che in quel momento sembrava veramente il suo personaggio di Sonso Van Orkic a me questa cosa ha fatto paurissima perché non c'era più differenza e è passato alla parte del torto perché di base il senso era so dove vivi e ti vengo a prendere che non è proprio il modo migliore per reagire a una provocazione però Romperman è conosciuto per essere un po' fumantino però il punto è che questa frase che è stata detta è gravissima cioè è gravissima perché è come dire ma sì tanto questi qui piangono piangono ma tanto poi i soldi li finiscono e quindi non cambierà nulla è grave oppure Bob Iger che è stato sincero ha detto però noi non abbiamo abbastanza soldi e giustamente Adam Conover che è quello di College Humor che è anche un creatore di show televisivi ha fatto un TikTok dicendo sì e a questa cosa mi starebbe bene se non fosse che questa questa frase Iger l'ha detta mentre andava ad un incontro con Zuckerberg Elon Musk e altri iconi sul suo jet privato e allora scusami ma cioè non mi dire questa situazione qua io l'ho vista tante volte mi ha raccontata con le amici parenti che c'erano situazioni in aziende di lavori diciamo tradizionali quindi fabbrica o cose del genere in cui veniva detto ai dipendenti non possiamo pagarvi questo mese vi diamo tutto il mese prossimo perché c'è la crisi e tutto e poi magari il dirigente di turno usciva e si metteva sul post e flexava il Cayenne che si era appena comprato ora non è che tu se hai un buon lavoro non puoi comprarti il Porsche Cayenne cioè ci sta però magari non dirmi non ti posso pagare mentre stai salendo sul Porsche Cayenne capito è quello che si almeno almeno fai finta capito almeno non ostentare non ostentare la tua ricchezza mentre dici alle persone che non possono essere pagate perché non ci avete soldi come dicevamo prima per i soldi che prende però insomma come dicevamo prima è anche purtroppo vero che tanti attori non potranno scioperare tanto perché a una certa dovranno guadagnare quelli piccolini solo che detto da da lì da quella voce lì chiaramente è come dire sì sì tanto piangete ma poi tornate qua a ciucciarmi è brutto è quello che ha detto anche Frank Recher è quel marco è quello che ha detto la presidente dell'associazione della Sagattra il sindacato che poi è la Tata lei ha detto giustamente ci dicono che non possiamo essere pagati più di così ma poi pagano milioni di dollari il loro CEO cioè si è stimato che nel 2022 David Zaslav ha preso 220 milioni di dollari ora non è che è colpa di David Zaslav glieli danno non è che lui dice no no ridistribuiteli io non li voglio è ovvio lui lavora prende quei soldi però è assurdo che un CEO prenda tutti quei soldi se poi mi dici che non puoi pagare gli attori allora forse gli dai una paga un attimino più commisurata che non sia così eccessiva ed esagerata e magari i soldi per pagare gli attori e dare residuals li trovi anche perché il problema dei residuals non si pone neanche perché come dicevamo prima loro dicono non abbiamo i soldi per pagare ma scusami ma se Orange is the New Black è stata vista veramente come Game of Thrones vuol dire che ha fatto un sacco di soldi e l'ha fatto grazie anche alle attrici quei soldi potevi se loro avessero dato i residuals non è che avrebbero se fai un calcolo non è che avrebbero perso la maggior parte di quello che hanno guadagnato perché non hanno altri costi per la distribuzione a parte il costo dei server per cui è solo loro dicono che gli attori stanno facendo i capricci ma sono le major che stanno facendo i capricci più che le major le piattaforme di streaming perché i residuals sono soldi che non avrebbero avuto grazie a quelle persone quindi già che li hai li distribuisci anche perché fanno tanto gli spessi e grossi ma con i soldi che perderanno le varie major a causa di questo sciopero avrebbero fatto prima dare residuals agli attori certo a voglia certo quindi non ha neanche senso sta cosa lo sceneggiatore che aveva preso 300 dollari 360 dollari tra l'altro era la puntata quella in cui c'era anche la devil la devil una puntata che tra l'altro deve essere importante perché lo ha detto lo stesso la puntata più vista della serie è una delle più viste con Disney Blast quindi è ancora più bella la beffa capito e tra l'altro lui era presente anche nell'ultima puntata quando lei entrava nello studio dei cinematatori sì faceva ridere che insomma ha preso poco in una puntata che tra l'altro ha fatto anche più visual rispetto a quelle che doveva loro si sono approfittati di un vuoto legislativo nel senso che i residual li hanno sempre presi dalle repliche in chiaro in televisione e poi si sono sempre scusati con il fatto del eh ma sul digitale è difficile capire chi guarda cosa quando perché in tv io ti mando un film in onda alle 21 il giovedì sera e riesco ad analizzare mentre su una piattaforma streaming in digitale in catalogo c'è sempre il prodotto e chiunque può guardarlo e si capisce che in realtà il motivo per cui non hanno mai parlato di visualizzazioni mai di dati d'ascolto era perché si dicevano apertamente di avere una metrica perfetta e precisa che teneva conto di quale prodotto avesse avuto successo e di quale no quella stessa metrica sarebbe potuta essere utilizzata dagli attori e dai sceneggiatori per determinare la loro paga loro hanno sempre approfittato di questo vuoto qui e non è ma più che altro il problema grosso è che loro stanno chiedendo un aggiornamento del contratto perché perché ci sono attori che magari prendono parte a un blockbuster che va solo in streaming e sul contratto ovviamente siccome è vecchio obsoleto non ci sono delle clausole sui film di questo tipo in streaming significa che per Red Notice ci sono adesso magari loro con gli attori principali avevano degli accordi particolari però in teoria in teoria quel film conterebbe come film per la tv è come se successe esattamente quello che è successo a Scarlett e Johansson porca puttana due menti in uno cazzo sì sì è quello è quello della guida perché sì ma assolutamente perché cosa succede in quel caso in quel caso lei aveva una percentuale che sarebbe dovuta essere estrapolata superato un certo incasso nel momento in cui tu dici il film va al cinema ma anche su Disney Plus in acquisto ulteriore rispetto all'abbonamento quindi con l'early access lei dice bene io quanto prendo dall'early access la risposta niente perché non c'è scritto nulla sull'early access dei piattaformisti mi metto un contratto e quindi il film ovviamente viene visto di meno in sala e a perderci e lei con la sua percentuale e lei dice ma siete stronzi e loro sì capito è un po' questo eh sì per forza è stato il caso antelitter hanno visto questo macello qua perché è stata la prima volta che si è verificata questa cosa quindi per capire Vic e anche gli altri c'è questo braccio di ferro stallo molto forte più alto perché sono personalità molto forti con toni molto accesi e quindi non vedo una risoluzione pacifica qual è secondo voi ci chiedo anche qui da curioso la chiave di volta l'elemento che può togliere questo impasse oppure cede il sindacato ai danni delle major visto quel che abbiamo detto prima perché a un certo punto qualcosa dovrà accadere appunto come dicevamo prima tra i due è molto più probabile che ci danno gli attori perché non possono fare altro ma non lo so sai perché come diciamo prima un anno di materiale da mandare ancora sulle piattaforme possono prendersela comoda tra virgolette non ce l'hanno tutti quest'anno no non tutti e attenzione sul fondo per sostegno degli attori e degli autori in sciopero da personalità di un certo spicco che però sono rimasti anonime quindi non si sa chi sono stati probabilmente per evitarsi liti da produttori e case di produzione sono stati già donati nell'arco di qualcosa come tre settimane e trenta milioni ora io non sto dicendo che trenta milioni possono fare vivere per chissà quanto tempo ma secondo me da qua a Natale il panettone glielo si dà tutti attori e sceneggiati sì assolutamente il discorso il discorso lo possono fare magari chi fa le comparse che dice vabbè no raga io devo tornare ma nel momento in cui non lo so rai a reno penso che i soldi da parte ne abbia ammetti che lui dice no finché non troviamo un accordo non mi muovo è tutto fermo non penso che vadano avanti sì perché poi le major si dovrebbero essere grossi no ma guarda che gli attori più grandi potrebbero cioè stiamo parlando di persone che potrebbero tranquillamente smerti di lavorare per tutta la vita io vi faccio notare che Johnny Depp a Johnny Depp sono stati fottuti dal suo manager una cosa come tipo 600 milioni lui non se n'era accorto per non accorgerti che ti hanno inculato 600 milioni quanti cazzo ne devi avere da parte più obiettivamente capito 30 milioni possono bastare per un po' per aiutare quelli più piccoli è quello il fatto perché tanto quelli grossi non hanno bisogno di che si distribuiscono quei 30 milioni è quello il punto è gente che i soldi ne ha è quello il fatto quindi guarda che questa barricata può durare tanto tempo è il punto che se sperano che cedano forse hanno fatto male i calcoli anche perché il problema finirà che Nicolas Cage sostituirà tutti gli attori principali io sono contentissimo ripeto il punto grosso secondo me è che qui si sta secondo me non si sta pensando alla cosa che andrebbe fatta cioè qui non si tratta di cedono loro cedono gli altri ma di va riformato il sistema è un sistema che ormai è marcio cade a pezzi c'è stata troppa avidità per troppi anni troppe persone si sono fatte i loro interessi sia tra gli attori che tra le major e adesso siamo giunti a questo punto di rottura quindi prima sentivo che dicevate che vogliono provare ad acquistare film esteri per cercare di lanciare un nuovo tipo di cinema o attecchisce quello e non penso proprio perché comunque vale solo per i film anglofoni perché gli americani lo sappiamo bene non guardano i film con i sottotitoli è proprio una cosa statistica io l'ho suggerita come palliativo temporaneo ma maicomaster sì ma non credo che però secondo me non funziona rapidamente il revival decine i panettoni in america bellissimo ti prego no mi stende sì che Massimo Boldi diventa una nuova star bello very delicate comunque no vero nel senso è secondo me una questione che sarà lunga e dobbiamo prepararci noi che facciamo questo mestiere a iniziare a parlare della serie sui buffi poi in realtà non è vero perché si può parlare anche di film più datati si può parlare di roba europea quindi in realtà non credo che il nostro lavoro ne risentiamo più di tanto poi sinceramente a me non me ne frega un cazzo cioè purché queste persone possono far valere i loro diritti io sto anche un anno senza avere la grossa roba di cui parlare un modo di parlare di qualcosa si trova ma più che altro perché è anche una forma di rispetto perché se noi facciamo questo mestiere è anche per merito di persone che ci hanno fatto sognare per tanti anni con i loro film quindi è giusto che in un momento in cui hanno bisogno di aiuto e si supporti anche solo parlandone di questa cosa io ne sto parlando tanto visto che anche Rob ne è stato parlando tanto visto che un po' tutti ne stiamo discutendo il più possibile perché è giusto che questa cosa vada fatta a girare che ci siano persone che dicono ma che ti frega tanto sono in America va bene d'accordo però ci sono anche loro anche perché è una questione uno sciopero simile benne anche in Italia quando è stato per i doppiatori quindi queste tipologie di cose è un po' tutti molto simili tra l'altro perché i doppiatori ad esempio mi raccontavano quando ho fatto una live con loro con alcuni di loro mi raccontavano che loro vengono pagati quando magari doppiano che cacchio ne so un grosso prima abbiamo parlato di Red Notice doppiano Red Notice e vengono pagati come se stessero doppiando un film per il ciclo Fantastice Aventura perché per il contatto quello è un film per la tv capito eh eh sì addirittura mi dicevano che gli doppiatori sono anche messi meglio rispetto ai fonici i fonici non possono neanche superare anche volendo per dirti quindi ma questo è stiamo anche cioè figurati in Italia l'arte negli ultimi 20-30 anni non è mai valsa molto sembra che si faccia di tutto per far morire di fame chi fa lavori artistici quindi cioè non mi dovrebbe mi dovrebbe stupire ma purtroppo non mi sorprende quindi dall'altro lato hanno dato l'incentivo parlamentare ai capigruppo ma ovvio certo ma certo ma certamente scusami ma scusa ma non vuoi non vuoi ripristinare tutti gli italiani eh no ma infatti no più che altro i argentini sono aumentati cioè eh no ma scherzi ma poi io questi magari hanno lavorato un anno e mezzo si è scusa ecco altro che altro che le royalties degli artisti quella è una roba assurda se vogliamo stare quella è una roba è davvero però poi sono le royalties degli artisti il problema capito come dicevi te che ci vorrebbe una riforma cioè una modifica generale di tutto il sistema come funziona però io mi chiedo è effettivamente possibile la riforma di un sistema che è diventato così grande una macchina che sostiene un'intera industria come cazzo la riformi cioè il discorso è per riformarla bisognerebbe smontare pezzo per pezzo quello che è successo dovresti licenziare tutti i CEO e mettere su persone progressiste che capiscono i problemi degli attori dei sceneggiatori di tutte le maestranze cioè è impossibile è una cosa che per per riformare questo ambiente devi farlo poco a poco nel giro di vent'anni e forse non sono neanche abbastanza non è una macchina industriale che puoi riformare con leggerezza di sicuro non la riformi in due mesi e quindi secondo me è una cosa che se non sbaglio era dal 60 che non succede con un attore combinato di attori proprio dal 1960 però questo significa che qualcosa di grosso capito cioè anche loro penso cioè in parte se non dovrebbero rendere conto infatti a me ha colpito la frase se dopo aver posticipato tre volte queste eventualità alla fin fine abbiamo deciso di scioperare ora non torniamo indietro per accontentarci di qualcosa ora andiamo avanti anche a costo di rimanere a digiuno per tanto tempo per ottenere tutto ma una volta arrivati a questo punto non ci si accontenta nelle briciole eh no lo spero lo spero davvero però il punto è questo è molto semplice la pacchia per le piattaforme di streaming è finita basta hanno fatto il cazzo che volevano con un residuo a speranni è arrivato quel momento in cui non lo possono più fare fine chiuso perché il punto è il solito discorso del è facile dire siamo ricchi siamo ricchi abbiamo fatto i soldi quando poi li fai sulla pelle degli altri sono capace anch'io a fare i soldi non dando quello che spetta a chi lavora per me grazie a cazzo grazie che divento grazie che divento sto rubando i soldi tutti così l'hanno rubato per anni e adesso è giunto quel momento in cui non lo possono più fare e dovranno trovare un altro modo per non esiste devo togliere la condivisione dell'account un saluto negli amici sì che tra l'altro a me arriveranno ancora mail di persone che dicono ma io non ho capito come funziona l'altro giorno c'è un tizio che mi ha scritto io sono in vacanza ho usato uno dei codici che avevo per Netflix dopo averlo usato mi dice mi dispiace hai finito i tuoi codici ho chiamato e mi ha detto non sappiamo se dice che ha finito i codici hai finito i codici io ne avevo quattro ne ho usato uno però e quindi questo qui non può usare Netflix in vacanza perché sì boh insomma io non l'ho più io non l'ho ancora rifatto Netflix tra l'altro io sì però per lavoro grazie a cacchio però però capisci che gente che mi dice ma io sto usando l'account di mia zia Pina e non mi sta dicendo niente altri che mi dicono che non gli fa usare l'account nonostante sia in condivisione domestica cioè non sta funzionando bene a livello tecnico io mi associo Vic perché io ce l'ho a casa da me ma lo stesso lo usano mia mamma e mio papà che abitano in due case diverse e loro non mi hanno mai chiesto un codice ma anche una volta eh quindi è come se l'avessero fatto un po' da un po' là se qualche amico di Netflix è in ascolto lui si chiama Tiziano eccoci qua Tiziano lo usano correttamente quindi piano piano nel giro di sei mesi tutti quelli che proveranno a condividere l'account non potranno farlo Timo mia sorella ad esempio lo condivideva con me nel giorno stesso in cui ho annunciato la cosa le ha smesso di potersi connettere subito anche a noi è andata così ci hanno interrotto subito poi non l'ho ancora rifatto però sì il punto è che se funziona funziona appunto cioè non c'è possibilità che riprenda a funzionare come prima il punto è che ad alcuni non è proprio arrivata ancora la notifica la mail da me subito proprio immediatamente quindi eh sì 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 mi hanno subito cioè mi è arrivato immediatamente l'avviso che lo stava usando qualcun altro della mia sorella che non riusciva più a entrare sto pezzando non so se rientra nel vostro caso che magari la differenza sto pezzando pensavo di cintore mi sto pezzando anch'io mi sarebbe tipo scivolata la lingua il fatto che io Netflix lo pago tramite Sky io ce l'ho incluso dentro Sky anche Tim fa una cosa del genere quindi dico magari è una roba che hanno cioè questa cosa dei codici ovviamente è una cosa che a Sky deve ancora arrivare anche perché io sono andato sul mio account e avendo l'abbonamento di Netflix tramite Sky io non posso fare la cosa di pagare i 5 ore in più e aggiungere una location certo non me la fanno fare no 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 quello che vuoi fare solo se hai Netflix puro eh quindi dicono che ancora non è disponibile quindi magari proprio per questo motivo qua proprio perché io ce l'ho tramite Sky allora non mi attivano quella cosa eh perché invece il resto io lo posso fare cioè per dire Sky di base ti dà tipo boh il 1080 io però ho aggiunto il 4k quello lo posso fare e pago di più chiaramente però invece quella cosa lì non la posso fare eh boh magari è questo il motivo anche Tim con la bolletta puoi avere puoi avere appunto Team Vision e Netflix magari in quei casi boh ci sono altre cose dietro non so ho degli amici che saranno devo provare a chiedere io devo andare va bene ciao Rob ciao Rob un saluto hai un consiglio della settimana Rob? eh sì ho iniziato una serie animata nuova su Crunchyroll che è tratta da un fumetto che è già pubblicato da noi che si chiama Zombie 100 parla di questo ragazzo che ha sempre desiderato lavorare all'interno di questa grande azienda e quando finisce con lavorarci dato che è una Black Company che sfrutta i suoi dipendenti non vede l'ora di morire perché non ce la fa più a stare lì fino a quando un giorno mentre va a lavoro scopre che scoppia un'apocalisse zombie lui è contentissimo perché significa che non dovrà più lavorare un giorno solo della sua vita fa una lista con 100 cose da fare prima di morire è simpatico molto simpatico esatto il 3 agosto arriva su Netflix il film live action quindi se volete buttarci un occhio aspetta ma quindi su Crunchyroll è uscita la serie anime? su Crunchyroll c'è l'anime io ho visto il trailer del live action di Netflix che dicevi è veramente carina come storia è simpatico tanta gente spesso dice ma è una versione comica di The Walking Dead no è più Zombieland mettiamola così ecco il manga è carinissimo il manga è veramente carino è anche qualcosina di I Am Iro per alcune cose però diciamo è più è più è più Zombieland è un po' più un po' più seria questo è per te mi raccomando perché qua puoi trovare il cuore nelle carte di Yu-Gi-Oh con Spider-Man e Iron Man quindi mi raccomando mi sento Marvel per Yu-Gi-Oh hanno fatto che non mi ha detto neanche a me o Andrea tutto questo io ho preso anche la Variant come uno scone anch'io anche la Variant ho preso anche la Variant non avevo dubbi ciao ragazzi ciao Rob ciao Rob eccolo bello devo ancora leggerlo io tutti gli altri vi saluto va bene è un consiglio della settimana a vedere una cosa una cosa nuova una novità assoluta le due torri le due torri è un film nuovo è una cosa nuova la recensione secondo me secondo me potrebbe diventare un cult in futuro penso di sì allora consiglio visto che l'ho fatto ieri lo facciamo anche qua questo consiglio di lettura dell'era spaziale bomba galattica è quel che è successo fatto con i vari life story su Fantastici 4 e Spider-Man in una chiave ancora più evoluta perché ripercorre 30 oltre anni di Superman con una serie anche di personaggi Genesi di Batman problemi dell'America diciamo societaria e poi tutto il pre-crisi insomma è molto molto bello è dato per tutti lettura della madonna molto politica buon buon tutto ciao 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 ah una cosa Andrea dove hai comprato la canottina così sexy me la devo portare al mare non lo so non mi ricordo ma non è quanto sexy vedi grazie Andrea che le visual è lui che porta la gente si mette là ecco devo fare le pull stream che uova che poi tra l'altro questo lo dico più per Vic forse sono quelli di sapere se l'avete visto mi è venuta in mente la battutaccia perché io ho recuperato tipo 13 anni dopo Remember Me ah beh col finale più grande della storia il finale più grande della storia quel finale è una roba che dici ok non me l'aspettavo io non te l'aspettavo perché non ha senso assolutamente no assolutamente no però è incredibile no anche io perché il film è mediocre però fino a quella madonna poi ci rifattivate e fai sì ok ma no cioè perché perché però è diventato un meme nel tempo quella roba lì me l'ho perso completamente tutto no 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 è veramente è proprio un film mediocre quello lì io l'ho recuperato perché sono finito su una roba di reddit in cui dicevano qual è il finale col plot twist più incredibile di sempre e c'era sta foto di robert pattinson e fai detto boh boh senza andare a vedere nei commenti devo vedere sta roba e fai tipo è quello di lui che era tipo un soldato no 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 ma si può dire che ho finito quattro anni fa ma io me lo ricordo di nome però non l'ho mai visto ora sono mezzo curioso quasi quasi me lo guardo ma mi sembra che lui mi sembra che lui fosse un ex soldato eh io cioè questo io l'ho visto quando è uscito quindi saranno passati 15 anni no ma vabbè si può si può dire il finale no no ma lo voglio vedere no no ora voglio sapere ah tu non l'hai visto no no me lo ricordo preparati Tiziano prepara è un finale che vabbè ti diceva perché boh si esatto cioè perché come diceva perché è proprio il classico film mediocre cioè non è che dici tu c'erano delle cose particolari sembrano una presa per il culo a un certo punto ma infatti cioè ma tranquillamente quel finale potresti metterlo su qualsiasi altro film qualsiasi film si si che funzionerebbe allarghi la telecamera in un dialogo finale e va bene anche The Mist mi ricordo che fece un finale molto però il finale di The Mist secondo me era un finale che dici ma come cioè ci stava il finale di The Mist era proprio da bastardi io lo consigliai ad alcuni miei amici che mi insultarono dopo perché invece a loro non piacciono per niente quel finale lì a me è piaciuto a me era piaciuto quel finale il film è Remember Me esatto Remember Me con Robert Pattinson e Emily The Raven che all'epoca che era famosa per Lost e c'è pure tra gli attori vedo qua che c'è Megan la duchessa inglese ormai Megan Markle si si ah si si bello bello per me non è più niente neanche lei perché eh no esatto si sono tolti dalla fogliare esatto comunque andando avanti prendendo di spunto il consiglio che ha dato Emma su Superman vorrei passare velocemente alle ultime notizie che sono uscite sul prossimo Superman Legacy tra le conferme ovviamente degli attori di Superman e Lois ma poi l'aggiunta dei vari personaggi extra come Lanterna Verde Hawk Girl e Mr. Terrific Terrific sì e c'avevo il dubbio sempre ogni volta che lo pronuncio sì sì vabbè dillo come ti pare e mica solo ce ne hanno annunciato altri due dopo altri due è vero quali erano? eeeh si chiama esatto e poi come si chiama ne hanno annunciato anche un altro uno abbastanza famoso come video non ricordo no ieri è rimasta metamorfo l'ultimo no c'era una comunque sì no non credo non credo comunque opinioni riguardo tutto ciò perché tipo io e Andrea abbiamo parlato un pochettino insieme la pensiamo diversamente io sono un po' più negativo su ciò perché magari va tutto in cacciara ciao Boban sei bellissimo ciao Boban ti sentiamo benissimo guarda sei perfetto meraviglioso vedo là che c'è tipo il dondolino addietro dall'altra parte ma guarda quanto è fresco Boban col capello tirato l'albe perfetto che beve mangia perfetto che professionalità meraviglioso ma infatti non sono come l'aslo che pianta il suo faccione davanti alla fotocamera che spaventa sono dal telefono ma che cazzo vuoi dalla mia vita mamma mia veramente guarda quando ha messo le foto dei piedi Boban ormai è diventato proprio sì sì ormai è ma sai tu scherzi ma non l'ho fatto neanche a posto cioè non l'ho non l'ho pensato se dicono così Boban quello era un chiaro teaser vergognate dicono tutti così comunque dicevamo lo vuoi aprire? assolutamente sì sono il primo abbonato sono già pronto si chiamerà Boban Sugar Daddy bello mi piace una volta una volta li facevamo all'inizio della live i discorsi porno adesso li stiamo portando verso l'attimo eh sì sì è un attimo non ci mette la post credit non le stiamo proprio facendo adesso no in effetti stiamo diventando veramente delle persone prossima live su qualcosa di sessuale poi decide Tiziano guarda come lo dici qualcosa di sessuale così sì qualcosa di sessuale dai parto io con il riassuntone su Superman molto veloce perché Tiziano abbiamo già parlato ampiamente io non sono così critico come molti nel senso che cioè al momento non sappiamo niente l'idea di base di voler fare un film su Superman un film su Batman con loro che sono già supereroi avviati non mi fa neanche a me particolarmente impazzire soprattutto più che per Superman per Batman perché siamo Batman con Damien e siamo praticamente con l'ultimo Robin della lista però il mio discorso è se andiamo a considerare che ormai hanno studiato di fare un universo condiviso con supereroi che sono già eroi da diverso tempo il fatto che si vedano altri eroi e personaggi mi può ancora andare bene dipende però sempre dal minutaggio in cui sono perché se mi dici c'è Guy Gardner lo vedo tipo 5 minuti all'inizio e poi non lo vedo più sti cazzi anche il collezionista era in Guardia della Galassia e lo vedevi per 5 minuti c'è da vedere come lo impostano se uscirà fuori un film corale di gruppo potrò essere sono d'accordo che cazzo farmi film su Superman eh sì Gano ha proprio detto sto facendo questi annunci perché tutto quello che sto scrivendo ho bisogno di questi personaggi per tutto quello che sto scrivendo quindi boh da una parte dico oh mi fido vediamo che ne viene fuori come gli ho detto a Tiziano dall'altra parte sicuramente un po' ci sta perché ha annunciato già di tutto secondo me come gli ho detto a Tiziano se esci fuori che è tipo un brainiac che controlla altri eroi e diventa bello che si deve scontrare con gli altri possibili però scusate scusatemi io capisco il punto di vista di Andrea che dice è giusto dire bisogna vedere cosa succede se sono cameo o no ok però io vorrei dire anche una cosa che a me questo sembra uno dei motivi oltre al fatto che molti film facevano cagare per cui gli stanzi di universe non è andato molto bene perché il fatto è che i film molto spesso erano brutti va bene però c'era anche il problema del fatto che loro non hanno fatto come la Marvel con i Marvel Studios che ha costruito l'universo hanno dato l'universo già fatto ora siccome questa cosa l'hanno già tentata e non ha funzionato mi sembra un pochino stupida l'idea di riprovarci belli sani in quel modo senza contare che James Gunn ha risposto a un tizio che diceva perché ha messo tutti questi personaggi ma qua Clark Kent condivide con due nature la sua natura umana di Clark Kent e lui che fa invece Superman con tutti gli altri metà umani come altro avrei potuto farlo la differenza per me Matti è che se tu mi fai un film cioè qua non mi aspetto che siano protagonisti Batman v Superman Batman era co-protagonista Justice League era una protagonista ma guarda che non era solo Batman v Superman il problema il problema era che guarda anche solo Black Adam in Black Adam che a me non è che deve essere fastidio però se tu pensi in Black Adam arriva la Justice Society a eroi affermati che sono lì da un sacco di tempo mai visti e sentiti prima non se ne parla mai quello è uno dei problemi è quello che mi ha un po' destabilizzato io ho paura e attenzione ma attenzione uomo io aggiungo anche il carico d'acento sai perché secondo me molti non dicono niente e hanno fiducia perché James Gunn perché se era un altro lo avevano già frustato sui coglioni fortissimo ma è solo ed esclusivamente perché James Gunn quello è verissimo quello è verissimo sì sì lo merita è che lui si è creato la sua fiducia si è creato si è creato questa fiducia che la gente si dà se l'è creata col tempo peccato che io per quanto mi riguarda non ce l'ho più forte come prima per le cazzate che ho creato ultimamente ha detto una tale sequola di stronzate identiche a quelle che hanno detto in passato i CEO di Warner che onestamente inizia a pensare che forse non è così saldo al comando come fa credere fermi un secondo Vic no 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 eccomi eccomi no no perché 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 ho scoperto che mi serviva a pagare StreamYard per fare entrare Matiosky anche quindi pagato per avermi si aspettavi un attimo tanto dovevo andare quindi eh vabbè fa niente siguals siguals vabbè eccoci eccoci qua scusa vai vai Vic ma sei riuscito veramente a pagare così poco tempo ma non ho capito è pagato Matiosky per entrare noi veniamo gratis è terribile personaggio importante comunque eh certo secondo me il discorso è semplicemente che l'ha annunciato James Gunn esatto no è che James Gunn si è creato questa fiducia però ha detto delle robe tipo Flash farà il reset totale dell'universo DC sapete la serie su Amanda Waller la seconda storia di Peacemaker saranno del nuovo universo del DCU solo che questo l'aveva detto quando c'era ci sarebbe dovuto essere il reset il reset non c'è stato sarà chiaramente un nuovo universo eppure ci sono ancora personaggi legati ai quelli del vecchio che sono in questo ok poi non solo guardate che Blue Beetle è il primo personaggio del DCU ma non il primo film e poi dopo hanno cambiato eh cioè il regista ha detto che invece no 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 quella cosa è stata detta recentissimamente eh sì sì l'ha detto Gunn e l'ha detto il regista Gunn l'ha ribadito tre giorni fa per dire quindi io prima avevo fiducia adesso non dico che non ho fiducia però inizio a sentire l'odore ma quello sicuramente è normale che alla luce di tutto questo ti fai delle domande per forza però dall'altra parte ti metti il carico da 100 sì sì certo no ma è tutto giusto quello che hai detto quello che avete detto solo che sai se mi dice mi servivano perché sto scrivendo questa trama eccetera eccetera dico boh vediamo chiaramente esattamente come non mi va di dire è Gunn quindi sicuramente è una figata non voglio nemmeno dire no no vediamo contro la merda vediamo vediamo un attimino ci va sul serio All Star Superman lo fa schiuppare a fine film spoiler però scusate però perdonatemi a me non dà fastidio tanto il fatto che lui voglia fare una cosa con altri eroi a me dà fastidio che lui abbia fatto nel messaggio di risposta abbia fatto passare questa sua scelta come se fosse l'unica possibile e come altro dovevo fare Richard Donner ce l'ha scritto tranquillamente basterebbe semplicemente non voler mettere altri 50 eroi in un cazzo di film su Superman quello che mi chiede è si è obbligato qualcuno a inserire fin da subito altri eroi no non pormela come se è come altro potevo fare come hanno sempre fatto fino a 15 anni fa non mi risulta che infarcivano i film sui singoli supereroi di altri supereroi però secondo me il problema è che se tu mi dici che questo fa parte dell'universo condiviso dove c'è già diversi eroi che sono in attività come ho detto prima per me è un'idea che ha un po' il senso che trova perché con Tiziano abbiamo parlato miliardi di altre volte siamo d'accordo entrambi sul fatto che partire completamente da zero poi ci si ritrovava poi ci si ritrovava a fare le stesse questioni che si sono in tutto il Marvel Cinematic Universe nel momento in cui arrivano a cazzo di astronave con gli elfi dentro Londra tutti a chiedersi ok ma gli altri quattro stronzi Avengers dove sono? quindi lui magari ti li metterà lì vediamo nel senso che comunque non mi fa particolarmente impazzire come idea però non sono neanche così lì a lanciarli merda prevedendo il disastro nucleare però vedi tu hai fatto l'esempio dove sono gli altri Avengers che per carità ovviamente è il problema che sappiamo i contratti le cose io speravo che Gunn in questo suo piano di unione mi partiva comunque col singolo e poi mi diceva ok nei film se serve che intervengano li mettiamo a contratto e succede perché il problema è questo cioè lui adesso mi fa vedere che ci sono tanti supereroi che Superman non può essere da solo perché magari c'è già qualcuno però poi ho paura che anche qua se a livello contrattuale poi non ce la fa ci faremo comunque quella domanda quando vedremo che Metropolis verrà attaccata e mancherà della gente attenzione Boban solo con l'audio ah perché non puoi pagare no no fa tutto se non gli può pagare il video solo no in realtà in realtà io sono silenzioso sì sì no il vero problema di Legacy è arrivato il bonifico è rapidissimo Jay Taz forse perché Boban dice ogni volta che esco e rientro mi arrivano altri soldi mica male saperlo adesso no e fattura fattura un piccolo miliardario mi sono pagato la rata il fatto è che introducendo le lanterne verdi introduci il concetto di lanterna verde cioè che esistono le lanterne verdi che è un corpo di polizia spaziale che c'è cioè non è una roba da poco io spero non è solo un eroe capito ci butti in mezzo dici c'è anche batman no tu stai dicendo che c'è tutto un ecosistema e tra l'altro non è neanche non è una delle lanterne verdi che vedremo nella serie perché quelle sono steward e jordan questo è un altro che è Guy Gardner lanterne molto più importanti non avranno il debutto al cinema ma ce l'avrà prima Guy Gardner che comunque anche lì è una roba un po' bizzarra però ci sta che lui dice magari proprio perché non deve avere una parte primaria non utilizzo una importantissima però boh ci sono tutta una serie di concetti che potevi introdurre velocemente in guardiani perché è un sottomondo marvel è il mondo cosmico quindi fa niente se non mi spieghi perché Groot è un uomo albero ma sì siamo nello spazio però quando mi introduce dei concetti che poi torneranno e che è importante tornino e io sono un po' stufo del poi ve lo spiego anche nell'MCU perché sennò perché io lo dico sempre nella fase 4 mi introduce il fratello di Thanos ma tanto poi vi spiegheremo perché è il fratello di Thanos c'è Blade che parla e ti dice ah la spada è pericolosa ma poi capirete perché ci sono gli anelli di Shang-Chi ma poi capirete quel segnale lì e dopo un po' capiremo c'è tipo un mega gigante nell'oceano atlantico ma poi vi spiegamo il governo se ne occuperà adesso si sta occupando di un'invasione aliena ma poi ne parliamo di quel gigante cioè dopo un po' diventa un po' ecco no ecco io lo vorrei fosse tutto un film come Stark Oak Girl no ma la Justice Society siamo una squadra la approfondiremo in un film cioè che diventasse un film spot di tante cose senza spiegarci il problema è che il problema è che è il primo il punto è il punto è pensate al primo Iron Man quanti superiore c'erano nel primo Iron Man? esatto e poi c'era Nick Fury però Mattia con sta cosa di Iron Man stai provando in un film del 2008 guarda che i tempi sono cambiati ma sti cazzi ma sti cazzi no però tu stai ragionando ma si è fondato ma si è fondato lì un universo Marvel no no perché gente che lavora nello show business e magari hanno la mente da imprenditori pensano in un modo diverso da me e te che vogliamo vedere solo un eroe non ragionano così loro ragionano il fatto che adesso escono film tutti stereodati all'ennesima potenza perché sono mille eroi eccetera eccetera vogliono stupire vogliono infarcire se a te se gli mandi solo un super eroe guarda che mezzi non lo vanno a vedere quindi perdone Roman quindi mi stai dicendo che è meglio ma non sto dicendo che è giusto no no però quello che dico è però funziona così in questo momento si stanno ispirando all'universo si stanno ispirando all'universo che gli ha fatti fallire e non a quello che ha fatto guadagnare miliardi alla concorrenza è una cosa da Yoti scusami loro stanno facendo lo stesso errore dell'universo che hanno concluso è stupido cazzo cioè hanno fallito l'universo per vari motivi in cui erano partiti subito di botto e invece di ispirarsi alla concorrenza si ispirano a quello che gli ha fatti fallire è una cosa da Yoti scusami eh è una cosa da Yoti ma non è il problema di introdurre tanti super eroi perché in realtà se tu fai no aspetta scusami se tu fai poi tiri fuori un film che poi comunque è alla dei suicide squad sinceramente a me il topo di fogna che sta lì e si gratta le palle ma che cazzo me ne frega dove viene mi piace mi ha divertito però Boba non è la suicide squad non sono i guardiani della galassia che sono un gruppo era per fare un esempio per fare un esempio ma in quel momento non mi pongo queste domande questi pippozzi mentali che ti stai ponendo tu e tanti altri sicuramente mi piace mi piace vedere un film mi diverte vado a casa soddisfatto poi se faranno un film una serie tv sul tizio alla peacemaker se faranno un film sul topo di fogna o l'altro che si stacca le braccia come la bambola di non lo so l'action figure se lo fanno benissimo sarò contento se non lo fanno sono contento lo stesso perché mi hanno regalato un bellissimo film perché non vi basate mai sulla pellicola in questione e magari la pellicola in questione vi stupirà vi divertirà ed è quello perché ultimamente quello che manca nei cinefumetti è il fatto che uno va lì e ci si diverte invece cercano sempre di renderli molto tronti cercano di renderli sempre pomposi e fanno gli errori della Marvel nel voler introdurre mille cose sono schiavizzati da questa cosa di collegarsi collegarsi si sono si sono praticamente legati e prendete quando le cuffie si arrotolano e non riesci più a sganciarli e a srotolarli in questo momento la Marvel è così perché ci hanno aperto mille cose non riescono più a cavarsela e secondo me rischiano poi di trovare tante sottotrame che hanno aperto non chiuderle più io vorrei vedere finalmente un film cazzuto cinefumettoso che mi possa divertire come è successo per The Suicide Squad dove introducono anche centomila superiore chi se ne frega non li devono approfondire voglio divertirmi cazzo che è la cosa più importante quando vai a vedere in effetti è quello che mi aspetta un film che si chiama Superman mi aspetto ha detto che vuole unire persino i videogiochi quindi mi sa che non è quello che ti daranno amici io purtroppo devo andare che sarà interessantissimo se non mi daranno quello poi sarò il primo a dire che questa è una schiftezza il problema è che te la pompo non lo perfino come una cosa che va contro quello che ti dice ciao ciao se vogliono come dici te Mattia mi ero perso la cosa dei videogiochi se vogliono fare questo collegamento a me piace sono felice è simile per quanto poi facciano pure molto altro è simile a quel che fa Star Wars a livello di collegamenti che unisce film serie di due videogiochi poi di mezzo ci sono anche romanzi fumetti quello magari è un step extra quindi non è un film fatto così solo per divertire questi vogliono fare un universo condiviso hanno già annunciato la prima parte del primo capitolo col cavolo che puntano allo stand alone ma proprio no è no è un malese e poi secondo me quando crea un universo condiviso sarebbe bello proprio perché parti avere anche delle regole che funzionino quante volte ci lamentiamo delle cose che non funzionano nella Marvel perché le regole non ci sono è ovvio che non è facile con supereroi però cioè io capisco allora il concetto di voglio divertirmi di Boban è sacrosanto e anche Dill non me ne frega del perché quel tizio lì sa volare però in un universo dove un po' penso alla Marvel dove c'è chi è mutante dove c'è chi ha avuto un incidente io voglio capire un po' però perché quel tizio sì attenzione uomo però il percorso della Marvel era diverso è stato completamente certo diverso negli anni quindi loro hanno sempre cercato di giocare col contagocce poi nella fase 4 hanno messo troppa carne al fuoco si sono un pochino inceppati tra di loro ed è stato un po' un disastro parliamoci che e il fatto che la fase 4 sia stato un mezzo disastro ha in qualche modo intaccato anche quella che è l'inizio della fase 5 l'abbiamo visto tutti quanti e sta intaccando anche i prodotti futuri tra anche problemi personali di attori vabbè questi sono altri discorsi però non è un momento bellissimo poi in più adesso c'è tutto lo sciopero non è un momento bello della Disney in generale Marvel ma non lo sarà neanche per la DC Warner se si continua così quindi a parte questo ovvio che secondo me il fatto di aprire troppe cose per anni loro ci hanno abituato in una certa maniera e dopo quando era molto più semplice fare i collegamenti adesso quando apri mille strade dove hai un passato dove c'è stato Thanos allo schioppo è difficile veramente riuscire a a collimare tutto lo posso capire dall'altra parte dico e che cazzo dopo un po' uno se ne può anche sbattere ma lo stesso tempo non se ne può sbattere le palle perché noi che abbiamo visto tutto dall'inizio diciamo ma che puttana è qua c'è un buco di scene giocorellino perché io ti dico in Legacy c'è questo poi ripeto stiamo parlando del nulla ce lo diciamo anche sì stiamo parlando del nulla però alla fine siamo dei nerd schifosi di cinema e fumetti quindi da sempre parliamo del nulla parla per te però vabbè tu disegni tu disegni comunque lui sfrutta noi comunque però io ti dico quanta roba aprirà questo film allora Boban cioè tu non hai paura che sto film aprirà le lanterne verdi e la Society e questo e quell'altro cioè alla fine del film non è che magari poi ne usciamo dicendo madonna quanta roba ha aperto e non ha chiuso davvero forse ripeto ma in realtà in realtà vorrei io spero spero di riuscirmi a porre come alla fine non sarà così lo so però spero di avere quella sensazione che ho avuto quando ho visto The Suicide Squad dove so che è una cosa a parte è una cosa che era solamente un progetto autoconclusione non doveva avere un futuro ok cioè doveva in realtà poi è andato male doveva ma non doveva è andata come è andata vabbè comunque quando sono uscito lì io ovvio che in quel momento ho detto cavoli vorrei vedere in futuro magari altri prodotti col topo ragno lì il topo cane e poi vorrei vedere altri contenuti con 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 quell'eroe lì tipo il tizio che si staccava le braccia eccetera vorrei vedere tipo un prequel suo ovvio che ti fai questi pippozzi da nerd che ci facciamo tutti poi se non lo fanno amen dici vabbè chi se ne frega ma non è che ti poi lo so che questi sono eroi o anti-eroi marginali inutili per la dc lo so ma so le intenzioni che contano le intenzioni secondo me secondo me un grande artista io james gunn certe volte lo rapporto un po' a kojima sono due mondi diversi però lo rapporto a kojima che sono un po' dei cazzari secondo me dopo un po' sparano tante minchiate perché sono quelli che hanno un po' il fluscio di coscienza e si va a prendere dall'entusiasmo vogliono fare tante cose e credo che i grandi artisti e i grandi creativi tendono un pochino a spararle un po' grosse secondo me anche james gunn ogni tanto casca in queste puttanate ecco quindi è un nerd è un appassionato è un amante della materia però certe volte si dimentica di essere anche in questo momento un grande imprenditore che deve tirare su un'azienda e che deve portarla avanti ok quindi io cerco un po' di non credere troppo le puttanate dopo un po' che sta le sue sparate grosse bisogna anche prendere un po' con le pinze lui è il capo dei DC Studios però comunque i primi sette mesi di gestione cominciarli dicendo puttanata destra manca non è la miglior cosa del mondo ovvio ovvio ma non è per difendere Gare anzi ma nessuno li ha obbligati a fare un nuovo universo per quanto riguarda la cosa la cosa che ha sempre saputo far meglio la disciplina di DCX universe nei film stand alone e infatti quelli stand alone che non sono collegati a uno vanno sempre totalmente bene Joker poi Joker può piacere come no però comunque è stato un successo The Batman è stato un successo voglio dire nessuno ti dice fai l'universo condiviso sono loro che vogliono fare l'universo condiviso e iniziamo a fare l'universo condiviso sparando stronzate secondo me come dice Mattia non è che si fa questo gran biglietto da visita era lì al comicon o alle sorinte interviste che fanno ma magari ci sono i classici nerdoni da palco che stanno lì in prima fila ma lo farete lui fa ma sì lo facciamo no 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 lui risponde ma c'è un chairman non puoi lui risponde no per scherzare ha tutto il tempo di pensare è vero e a volte non sa neanche darle perché c'è chi l'ha messo all'angolo di recente e lui scomparsa non risponde c'è uno che gli ha detto mi perdoni signor Gani io sono molto entusiasta di Superman Legacy ma Nathan Fillion che sarà Guy Gardner era già in The Suicide Squad faceva The Touchable Kid ora l'universo inizia con Creature Commandos e Waller che sono collegati sia a Peacemaker che a The Suicide Squad e lui ha detto no no il canone DC inizia con Superman Legacy e uno sotto gli ha scritto ma scusa ma nel video di gennaio non dicevi che iniziava con Creature Commandos silenzio non sa neanche lui che cazzo esatto però Mattia capisci che capisci che è un cazzaro dai dai ma sto cazzaro è costi odio è costi odio da zia Boban lo so lo so ma noi stiamo passando un po' per gli uomini fumetto no no perché vi ricordo che in quella puntata ad esempio voi nessuno gli ha chiesto Boban no sono cose che ha detto lui lo so lo so però è un cazzaro si capisce quello che è un grande cazzaro è un ex cioè le cose che ci dirà da adesso in avanti vabbè ma un cazzaro ci avrà detto una minchiazza cioè questo questo cazzo sono bene dire ancora tante altre di minchiazza di metamorfo di guy garter magari una pozzanata magari una trollata secondo me sono come dirà tante di quelle stronzate io sono dell'idea che banalmente hanno visto Felish che è andato una merda anche quella hanno cambiato un po' di roba molto semplicemente perché perché come gli ho detto come ne parlavamo con Tizio un'altra volta se tu già arrivi su un film che ti deve fare da incipit per quello che sarà dopo e tu arrivi tipo un mese prima dell'uscita e hai tre finali differenti e te prima un mese prima di far uscire il film al cinema in base a non so cosa forse l'hanno scelto da un cappello con i fogliettini piegati scegli che finale mettere e vanno sono tre finali che vanno in tre direzioni completamente diversi cioè non è che dici perché in uno c'era perché in uno c'era Keaton c'era Sasha Kale che rimanevano che faceva presagire che da quel momento poi era con l'universo quindi secondo me le idee chiarissime non ce l'hai io poi magari mi sbaglio sono comunque l'idea che hanno visto che Flash è stato il flop peggiore della storia di cinecomics il flop peggiore della storia della DC secondo me hanno deciso di deviare ma no ma poi c'è anche l'opzione è capitato ricordatevi quella merda di inumani che era diventato il film hanno deciso di farlo diventare una serie però capisci che con inumani gli è andata bene che non gliene fregava un cazzo a nessuno io infatti dico secondo me è normale che lui della sua testa voglia far cominciare tutto con Superman Legacy e si è trovato tra le mani tutta una serie di roba brutta però allora cambia il modo di comunicare cioè non dirci resetta l'universo Flash e poi condividere le immagini che avevano fatto i fan con il posterone con il scrittore Flash resetta l'universo dopo il reset succede questo lui l'aveva condivisa allora non fa allora ragazzi io sono arrivato qua ci saranno una serie di film molto belli però il discorso il discorso è se inizialmente doveva essere così e poi hanno cambiato idea cioè eh però non ci credo nel rispetto del pubblico lo fai un comunicato stampa e lo spieghi come si è sempre fatto nella storia delle bionde perché non si lavora sarebbe folle anche perché è un caos assoluto loro avevano già in mente di partire con Legacy e hanno usato hanno detto delle bugie cercando di vendere questi nuovi film io non voglio neanche normalizzare la questione che leggo essendo presidente di un'azienda che deve fatturare giusto che dica delle cazzate ragazzi c'è onestà nei riguardi del pubblico se voi andate al supermercato c'è una scatola dove c'è scritto biscotti al cioccolato tornate a casa e dentro ci sono delle pastiglie di aspirina secondo me un po' di cazzate che poi è il contrario secondo me un po' vi girano le palle che poi Mattia è il contrario in realtà se sei un imprenditore tendenzialmente dovresti essere molto più equilibrato lui non sta ragionando da imprenditore che dice la cazzata sta ragionando proprio da ragazzino secondo me la mia critica la mia critica che faccio a Gann è che dovrebbe dimenticarsi di essere un nerdone che sta lì a giocare con la troma che dovrebbe toglierselo finché giocavi con i guardiani della galassia e facevi il cazzo che ti pare avevi solo i guardiani della galassia e potevi fare il cazzo di chi pare e ti hanno dato la libertà ora che ti hanno dato la libertà e hai anche un'azienda da risollevare ovvio che dovresti prenderle sul serio le cose ma la mia è una critica non per difenderlo proprio perché ho capito che è un cazzaro ma in chat scrivono che sta parlando come creator e non come presidente rimane comunque presidente ma oltretutto col senno di poi siamo tutti più bravi ci mancherebbe e noi non abbiamo sulle spalle la carogna della Warner appurato però a parte che non stiamo più parlando di Superman ma della sua gestione mi domando cosa ci volesse a dire a gennaio ragazzi sono diventato il presidente mi sono trovato quattro film realizzati dalla precedente gestione che per me sono bellissimi perché non puoi dire sono una merda sono bellissimi saranno la conclusione del DCEU l'epica conclusione saluteremo per l'ultima volta questi personaggi che ci hanno fatti sognare con Aquaman 2 ultimo film del DCEU si conclude il DCEU poi io stavo già lavorando a due progetti uno si chiama Creature Commandos l'altro è Waller e voglio fare la seconda stagione di Peacemaker sapete cosa saranno degli Elseworld perché abbiamo creato l'etichetta Elseworld e l'hanno fatto per davvero The Batman Joker questi progetti saranno ambientati su terre parallele Harley Quinn pure che ha la serie animata l'album così rischiavi rischiavi che la gente non andasse più a vedere questi è uguale lo so ma lì scusami lì non c'è solo voi pensate che ci sia solo Gun allora che c'ha i tasti pigia i tasti e decide lui non so beh c'è anche qualcuno di dietro gli dice senti regolati quindi mi fa piacere vedere che la nuova proprietà non ha imparato un cazzo da quella precedente no non ha imparato niente che la Warner abbia imparato un cazzo di niente questo è palese però doveva dovreste il nuovo inizio ma secondo me Gun in questo momento ha in mano una bella patata bollente che non sa come come risolta ma guarda che non l'hanno obbligato a fare il schio lo so però ovvio che se poi vuoi fare quello che ti piace fare tanto te Superman Legacy decidere tu dovrai passare un fardello dovrai prenderti questo fardello addosso e insieme a Warner io sono Warner io ci metto i soldi decidiamo assieme come fare decidiamo insieme significa che io in futuro ti darò tutti i soldi che vuoi ma qui fino adesso decido io come chiudere questa baracca qua ricordati di non spararla grossa e di dire senti guarda che questa roba qua non c'entrerà più un cazzo con tutta la roba ma chi è che la sta sparando grossa no 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 dico io mi ipotizzo un po' Warner in modo un po' non gli avrà detto quello sicuramente non mi dà fastidio io lo giuro a me non dà fastidio che Gunn abbia detto che The Flash sarebbe stato un cinecomic incredibile non mi dà fastidio perché lo deve vendere va bene mi dà un po' più fastidio quando prende il regista di quella ciofeca e lo fa diventare il regista del nuovo Batman è quello mi preoccupo perché vuol dire che gli è piaciuto sul serio perché vuol dire che ha visto anche la sceneggiatrice che però ha declinato voleva la sceneggiatrice lui ha visto The Flash gli è piaciuto per davvero e si è detto cavolo ma niente di meglio di questo qua per dirigere Brave and the Bold lì sì che mi stringo un po' le chiappe non se mi dice un bel film Blue Beetle ti dirà che è un bel film A Come in Due sarà un bel film non può dire eh no ragazzi A Come in Due l'ho visto e insomma è una mattina secondo me il problema era magnificare non era dire che erano belli era magnificarli no era quando si sentono cose del tipo Il Cavaliero Oscuro è il fatto che Muschietti regista del peggior flop nella storia dei cinecomic abbia ottenuto un nuovo progetto nel nuovo ma tu pensi che lo mantiene? secondo me no mi auguro di no vorrei vorrei sperare c'è stato lo sciopero eh si sono prolungati i tempi non può più girare porca vacca non può più girare io sono ok ragazzi io devo andare scusate mi devo va bene Vika hai un consiglio della settimana vado ah sì ho comprato Deadpool Samurai che però è là dietro non riesco ad andare a prendere che mi è piaciuto un sacco che ha una collaborazione con Shonen Jump ed è boh a me ha divertito un sacco è proprio un manga però fatto da Marvel e già non so se l'avete letto però è molto carino lo trovate intime a me sto per no ti dico la verità diretta no a me è divertito lui lo potrebbe una collaborazione Andrea non sarei mai io di nuovo alti da leggere è imperdibile è invece carina è carina poi vabbè lo sappiamo che Andrea non capisce un cazzo quindi doveva essere uno strone ulteriore ad acquistarlo visto che non piace l'Andrea ciao Vic ciao ciao dicevi Andrea che io non lo so ho giusto la sensazione che per me se continua così Aquaman 2 non lo vedremo proprio perché secondo me Blue Beetle andrà a flopare peggio di Flash mamma mia io non ci credo che Blue Beetle al cinema fa meglio di Flash a me la cosa che fa strano è che io ormai è da mesi che ogni volta che vado a vedere un film nella sala IMAX fanno sempre Blue Beetle sempre ma da mesi da prima appena uscito dallo studio dal primo giorno lo fanno sempre io non ho mai visto per così tanto tempo un trailer e non hai ancora cambiato idea per andarlo a vedere e la mia domanda è se Flash arriva massimo a 280 270 milioni quanto può fa Blue Beetle arriverà neanche a 200 a manca 100 seriamente vanno a far uscire al cinema Aquaman 2 a novembre l'ultimo film pannalino di coda di cui non frega un cazzo a nessuno però a Natale è un po' più facile avere degli incassi non dico che lo renderanno un successo ma favorevoli alla fine un progetto tra le balle quello che dicevamo prima pur era secondo me può uscire solo se allo stato attuale è completamente finito se mi dicono adesso ti dico anche con Natale abbastanza sguarnito non c'è una concorrenza però quello che dicevamo prima Mattia è che Wonk è sempre di Warner c'è un altro film remake di uno di Spielberg no Dune a novembre un altro film remake di uno di Spielberg anche quello che esce sempre a dicembre è sempre di Warner pure questo è Warner cioè loro in un mese fanno uscire tre film di cui due almeno sono grossi perché Wonka ma sono scemi lì sono scemi il colore viola il terzo cioè lì sono veramente stupidi capito secondo me è appurato che la gestione Warner abbia un problema ma fanno il remake del colore viola sì sì esce a dicembre sì un musical musical ispirato al musical di Broadway lo dirige Muschietti forse comunque no perché adesso che te stanno gridando attenzione a dire che il colore viola non se lo caga nessuno perché in America c'è Oprah Winfrey che lo sta spingendo come se l'avesse fatto lei quindi magari a parte che ha fatto record di incassi quello classico The Flash c'era Tom Cruise che lo spingeva come se l'avesse fatto lui era in sala ogni giorno vedere The Flash cioè in Italia veramente non andrà nessuno in America sotto Natale però ecco ci stanno dicendo tutti articoli su articoli che The Flash era meglio non distribuirlo avrebbero perso meno quindi io capisco che Andrea magari dice magari questi si leggono gli articoli e dicono raga ma non è che forse però ripeto a Natale comunque vanno ancora tutti poi secondo me anche con Fast Momoa un po' ce l'ha l'attrattiva ancora di portare al cielo non come in che primo c'è dall'altra parte c'è anche non ricordo come si chiama Amber Heard capito con tutto il casino ma va no ma nel senso poi ok è vero come in due 500 li fa 500 questa è la tua per me sono un botto si passa dal miliardo a 500 infatti un miliardo e passa al primo secondo me fa 500 perché Natale non per altro perché Natale non c'è un cazzo buoni non lo so però se te lo devi però se te lo devi immaginare ti sa più di Natalizio Aquaman o Wonka Wonka andrà meglio e quindi secondo te Wonka fa più di 500 milioni si per me fa 600 magari fa il botto vero Mattia base al discorso su quando hai fatto tipo Santo Stefano che vuoi solo vegetare che mangia ma fa una passeggiatina vai davanti al cinema vabbè che cazzo danno ma sia come due io ho anche avuto il privilegio di lavorare al cinema a Natale Santo Stefano ovviamente era un altro periodo pre-pandemia la follia la follia io sono rimasto a staccare biglietti tutto il pomeriggio senza muovermi dalla postazione da quando ho attaccato alle 14 alle 20 di sera giuro non sto esagerando avevamo una telecamera installata nella biglietteria per ragioni di sicurezza certo e di solito nella visuale vedevi la bigliettaia il vetro e un po' di pavimento non vedevi il pavimento non vedevo il pavimento wow c'erano così tante persone che non vedevo il pavimento quindi ovviamente c'è stata la pandemia ma ma se non guadagna a Natale vuol dire è andato bene il gatto con gli stivali 2 a Natale con l'animazione in green 400 che è una roba io di un 500 glieli do ma perché veramente non c'è un cazzo quest'anno non c'è niente secondo me i Ghostbusters andranno in un modo scandaloso in negativo non mi piange il cuore ma temo anch'io che sa un po' come lì secondo me non gliene frega più cazzo a nessuno no secondo me proprio cioè quel flop lì di Indiana Jones guardate che preoccupante preoccupante per le vecchie glorie vai via Andre buon sede della settimana buon sede della settimana vabbè silo come ho detto prima che ho finito di vedere su Apple TV Plus è piaciuto un sacco per i presenti lo rimarco storia solita se non l'avete vista post apocalittica gente che deve vivere chiusa dentro il silo perché fuori inabitabile però la cosa bella è che hanno fatto un bel lavoro di sceneggiatura di sceneggiatura di scenografia e un sacco di comparse proprio ben curata poi c'è le becca Fergurson che è sempre un bel vedere e poi ho iniziato From su Paramount Plus ho visto le prime brava molto felice e non sembra male infatti stasera poi la continuo va bene ciao 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 va bene direi di andare al prossimo argomento anche relativamente in velocità prima di passare a Secret Invasion come cosa finale ossia le foto che sono uscite di due cose uno vabbè ovviamente Deadpool immagino abbiate visto Hugh Jackman con la tuta e vi piace cioè tu pensi quindi che Secret Invasion sarà lungo e con questo andremo in brevità questa è la tua sensazione invece no 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 era solo un ordine un ordine di scherzo perché adesso tipo due ore vedi no perché c'è quel Electra non ha senso il multiverso foto di Hugh Jackman con il costume giallo io sono molto felice di averlo visto così sì dai 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 Mattia sì no una cosa mi sconvolge perché no dai non è mai stato quel costume giallo finalmente gliel'hanno dato allora allora ci sono diversi motivi posto che ci sto facendo l'occhio ma avrei preferito il nuovo Wolverine col costume giallo ah tu l'avevi già detta questa cosa me lo ricordo che ne avevi parlato sì avrei preferito questa peculiarità e questa è una mia impressione ci piace perché ah guarda il costume giallo dei fumetti posso dire con un pugno nell'occhio ovviamente sono foto non post prodotte non c'è la fotografia del film ma cazzo sembrano un tubetto di ketchup e di maionese l'esempio è perfetto però voglio dire infatti ti stavo per dire Deadpool anche non è diverso è uguale sempre ma io vai a vedere le foto confronto Deadpool ha fatto un confronto con i due costumi l'hanno veramente ora è proprio una calza magliona l'hanno proprio downgradato io capisco Deadpool dici sì 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 no non intendevo quello però dico proprio nella stessa foto se metti a confronto Deadpool e Wolverine cioè entrambi hanno poi sarà che Deadpool l'abbiamo sempre visto così infatti ripeto mano a mano che ci sono le foto mi sto abituando c'è ormai ok a livello visivo ce l'ho però lì per lì ovviamente sono lo ripeto sono foto non post prodotte quindi non avrà poi quell'impressione di gomma piuma nel film sarà molto meglio ma mi sembra che l'esaltazione sia è come il fumetto va bene ma poi è bello il costume c'è un bel costume sarà bello il film ma con queste spalline azzurre ah altra cosa probabilmente ci scherzeranno sopra nel film di questo sono sicuro i costumi fino al vomito sicuro fino al vomito e quindi a maggior ragione lo accetterai come vedete alla fine ci sta secondo me io dopo aver visto lo cioè come tutti quanti dopo aver visto Logan in quella veste così catartica così profonda così truce mi riesce difficile fare il passo indietro immaginarmi Wolverine tutto bello giallo col costume e che fai guappo so che sono due mondi diversi quasi possono però proprio è proprio una cosa che poi magari il film mi piacerà tantissimo sono d'accordo sono d'accordo però porca misera è difficile cioè Logan cazzo Logan filmone nonostante aveva tipo un finale un pochino buttato secondo me è un cattivo che era tipo boh una scorreggina però Logan è comunque un film bellissimo cioè un bel film divertente dopo quel personaggio vederlo così vederlo adesso così con la tuttina gialla un pochino sai un po' mi fa strano posso dire la differenza era anche che lì era effettivamente Logan qui è tornato ad essere Wolverine o poi di che universo chissà cioè magari viene quello boh no ma a parte questi pippozzi da universo non universo è proprio una percezione da spettatore mia cioè non è che senza fare il ragionamento che ci sta dietro del perché lui ha il costume già poi io so già ci divertiremo tutti quanti ho detto bene o male tu due risate te le fai come ha detto Mattia ci sfraccelleranno l'apparato testicolare facendo battute sul loro costumi va benissimo accetteremo mi aspetto anche una battuta sul vecchio costume giallo di Wolverine che veniva fatto vedere tipo in Wolverine l'immortale mi sa c'era una valigetta che arriva al costume giallo ma era giallo e nero non giallo e blu e c'era proprio anche il caschetto qua invece non ci sta e sicuramente secondo me ce l'avrà il casco anzi io lo vorrei vedere le discrezioni hanno detto che addirittura ha delle orecchie volutamente ridicole che poi le scoglierà probabilmente può essere che gli facciano uno stile un po' più molto simile al fumetto come è stato anche il Loki anziano che c'era in Loki nel vuoto un po' caricaturale un po' esagerato ecco poi ad esempio il Loki anziano alla fine mi era piaciuto contestualizzato sì 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 perché era contestualizzato bene attenzione lì era veramente contestualizzato voi credete nella teoria parlando del vuoto lo stavo per chiedere vai Didi ecco visto che si vede il logo Fox distrutto che è super meta metacinema ci sta parlando proprio dicendo l'universo Fox che non c'è più anzi pure è stato acquisito dalla Disney che però i personaggi tra virgolette li lascia l'anno nella discarica non li usa oppure cioè è una roba meta e punto o effettivamente nella fine degli universi vista in Loki con tutto col Tano Scottero con la torre degli Avengers 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 che quindi però pure il tribunale vivente c'era una statua c'è anche il logo Fox permessi cosa che a me a me fa un po' pensare però là c'era il Tano Scottero e tanti elementi contestualizzati qua c'è proprio la Fox che è una roba esterna è proprio meta però là dentro ci finisce anche la roba dopo She-Hulk sinceramente è legata al fatto che Deadpool rompa la quarta parete come fa She-Hulk e io penso che sono gli unici due prodotti però è Deadpool che rompe la quarta parete non l'universo che rompe la quarta parete se c'è il logo Fox lì non è Deadpool che rompe è l'universo che rompe quando She-Hulk ha rotto la quarta parete nessuno si è accorto che lei l'ha rotta cioè comunque tutti poi hanno detto le cose sono andate diverse noi sappiamo che è lei che ha voluto farla andare diversamente ma tutti vivono il loro cioè se lei poi compare in un altro film non sanno che lei può fare queste cose magari la vedono parlottare da sola pensano sia un po' sciroccata qua vedi che loro combattono con il logo dietro cioè Deadpool rompe il cinema la domanda è per Wolverine quel logo lì che cos'è? oppure non è niente cioè nel senso quando è in Loki lo vedi solo Deadpool no no magari lo vedono tutti ma fa parte della scenografia perché in Loki vedere il tribunale vivente vedere l'elicottero di Thanos vedere la torre di Kang noi l'abbiamo vista e abbiamo detto oh wow però non è che il Loki si è fermato a dire guarda quindi però sono cose che possono comparire la torre il Thanos cottero torvana vuoi dire il logo della Fox è proprio fuori dalla narrazione fatto sta che ci può far dire magari Deadpool non è che sarà canonico davvero si divertirà ma poi hanno fatto la scenografia magari si vede per 10 secondi con Deadpool che fa una battuta ah ho trovato anche questo abbiamo speso 500.000 euro per un frame come dice Pietro di in chat sono elementi in universe questo è extra universe certo ripeto c'è l'universo magari sono nell'universo cioè nel multiverso c'è di tutto c'è l'universo anche dove ci siamo noi a meno che non vogliono intenderlo così capito che noi siamo parte del multiverso e semplicemente per dire Disney Plus dato che in Shulk l'hanno presentato così Disney Plus è il nostro specchietto quello che ci fanno vedere in What If che ci dà una visione su quel che è il resto del multiverso quindi noi dalla nostra casetta seguiamo le storie poi è ovvio che è una cazzata però è una cosa divertente fa ridere no però no perché quando sento parlare dell'Electra di Jennifer Garner di gente che si amava ah io sono felice Mattia mi dispiace io amo di quell'Electra vedi vedi che c'è il pubblico io amo quell'Electra io amo quell'Electra io sento Deadpool ammazza l'universo Fox io mi faccio sempre due domande e la risposta è diversa per ciascuno ce l'aspettavamo da Deadpool nel senso vedendo i primi due film dal terzo volevo un questo e poi è divertente se sì per chi queste sono le domande ognuno risponde in modo diverso allora sai che ad esempio al se sì per chi posso capire cosa vuoi intendere perché magari è divertente per noi che magari abbiamo presente chi sono tutti quei personaggi abbiamo visto tutti i vecchi film e altro però per il pubblico è arrivato più recentemente anche solo negli ultimi dieci anni quindi diciamo da quando è arrivato Avengers è esploso un pochettino e hanno cominciato a guardare magari non hanno mai visto quell'Electra non hanno mai visto quel Daredevil e sono cose che non capiscono come può essere stato anche in Doctor Strange vedere come avevamo detto l'avete detto proprio te il fatto di vedere John Krasinski come Mr. Fantastic è una cosa che io ti dico wow figo è però il pubblico generalista ti dice vabbè Mr. Fantastic non capisce quella cosa come anche per Black Bolt ad esempio che arriva dalla serie di Newmans c'è anche poi da dire questo amati o odiati c'è da dire che però poi in effetti sia Spider-Man che ha fatto sta roba che è Doctor Strange sono gli incassi maggiori quindi a guardare bene loro dicono oh quelli l'hanno applaudito per Garfield che entra da un vico però secondo me confrontare gli Spider-Man Electra è capito un attimo però flash tu però hai detto mi piace che bello ma io infatti sono flashissimo no no io l'ho sempre a me con Electra a me piaceva un botto lei con la sua mania di pulire le goccioline di saliva in giro e poi come si giostrava non lo so mi piaceva un botto adesso che abiti da solo fai così anche tu contro le piastrelle sì sì esatto contro le piastrelle però ti dico tu li vorresti ti faccio questa domanda perché ci abbiamo riflettuto prima a tutti in realtà la faccio a te perché tu hai detto mi piaceva tu la vorresti sfottuta o glorificata questa Electra perché c'è chi vuole che lui li ammazzi tutti per me va bene io la cosa a me va bene qualsiasi cosa la glorificano la fanno fuori va bene tutto io semplicemente sono felice che c'è no ok che c'è va bene però a me piace che in queste così qua diciamo stanno portando un messaggio che poi uno può vedere o non vedere può apprezzarlo o non apprezzarlo il fatto che si stiano dimostrando come tutto quel che loro hanno mai fatto in qualche modo è collegato ed esiste in altri in altre cose cioè tutti quei film di anni e anni fa fanno parte della Marvel ok e poi li vuoi vedere non li vuoi vedere a me sinceramente piace come cosa è una cagata ovviamente però io voglio quello è un po' è molto vedo molto più parco giochi questo Dead Deadpool rispetto a quel che era No Way Home allora ah beh posso intanto io devo devo andare secondo me dico solo questa con Flash avrebbero fatto secondo me avrebbero fatto il botto se ci avessero avessero fatto tipo staff rubata di metterci il Batman di George Clooney e Robin compreso Schwarzenegger avrebbero fatto il botto non Keaton avrebbero fatto no secondo me pensateci non gliene fregava un cazzo nessuno no secondo me avrebbero fatto il botto però con Christian Bale perché devi immaginare Boba anche la è troppo è troppo la generazione attuale di spettatori di tutto ciò e mi ci metto anch'io comunque l'ho visti anche quei vecchi Batman però quello con cui più recente con cui si è cresciuti a cui ci si è affezionati non è sicuramente Ben Affleck è al 100% Christian Bale e qui si lo so quindi se tu vuoi se tu vuoi avere del successo anche devi ovviamente anche spingere sui giovani se tu mi metti George Clooney che numero uno già ai tempi fece cagare numero due non ci sono affezionato io ci vado e dico vabbè ok io ho un bellissimo ricordo di Batman e Robin io l'ho io l'ho rivalutato negli ultimi anni no io non l'ho mai in realtà non l'ho mai svalutato io c'ho ancora la cassetta ma scherzi ma io avevo l'album delle figurine completo ho proprio speso dei soldi quindi vabbè da bambino ovviamente mi è sempre piaciuto per carità però forse è il mio guilty pleasure c'è una scena incredibile con Fris che piange c'è la lacrima che si ghiaccia che poi bellissimo io non me lo ricordavo ste cose bello bobo ragazzi hai un consiglio bobo guardate sono sempre in quella fase dove non sto guardando molte cose non ho neanche più tempo per giocare perché mi sto concentrando solo sul fumetto quindi dai faccio uno spoiler sto guardando in realtà in realtà in realtà vi posso consigliare un libro barra audiolibro nel senso che io non avendo tempo a me piace sempre piaciuto un po' leggere ma non avendo tempo per leggere mi sono fatto l'abbonamento su audible e quindi sto ascoltando libri come si dice audiolibri a manetta l'ultimo che ho ascoltato è tipo la storia con delle mafie moderne una roba così molto interessante perché è di è di quello storico che fa geopolitica famoso non Orsini qualcuno potrebbe dire Orsini no è tipo quello famoso cavoli aiutatemi lui lui Boba aiutatemi voi che siete informati ho in mente barbero di storico però no no stava per dire Orsini l'uomo stava per dire Orsini Aldo Giannulli Aldo Giannulli Aldo Giannulli scusatemi Aldo Giannulli comunque è molto bello perché fa un'enciclopedia di tutte le mafie non solo ovviamente quella siciliana camora ma di tutte quelle mondiali e quindi anche quali sono i mercati moderni quindi è tipo una roba quasi geografica che ti fa tutto un con la collezione a tutti a chi piace magari il tema a me che piacciono i film di mafia mi è sempre affascinato questo mondo però non mi è mai piaciuto Gomorra e devo dire che questo libro è molto bello ve lo ve lo così ma che si chiama ah si chiama aspettate ce l'ho qua mafia mondiale si chiama c'avevo anch'io con la schifezza lì guarda che bello che bello ma cosa mi hai tirato fuori che bello Aldo stavo dicendo Aldo Giannulli mafie ma mafia mondiale mafia mondiale ma mafia international io prima che scappi Boba ciao ciao ho sentito dimmi 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 vai vai ho sentito l'inizio del podcast su Starlord eccetera dove in Italia però è un futuro alternativo con Starlord diciamo sì l'ho iniziato anch'io dove però Rocket è doppiato da Guzzanti e io non ce la faccio ragazzi io ho messo proprio un pezzo di Guzzanti che fa quello e a me sembra di sentire quello io sento proprio allora adesso dobbiamo ti voglio bene c'è una voce un po' c'è 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 la voce un po' l'ho iniziata anch'io ma non non sono andato avanti perché mi stavo un po' annoiando però ma è veramente non ho visto i nomi di quelli che Guzzanti e Neri Marco Re fa Starlord però Neri Marco Re ma Guzzanti quando poi forse perché lo so io sento proprio quello sei sicuro Starlord noi dobbiamo andare a fare sembra sembra mi ricorda sbiascica un po' ma poi a parte una cosa che è tipo un libro bellissimo libro bellissimo quello di ovviamente l'audiolibro quelli di Harry Potter però quando Pannofino si mette a fare cosa come si chiama Draco Malfoy un fastidio poi tutto bello lo ascolti ma quando fa Draco Malfoy ma perché lo devo fare così per fartelo odiare no ma no ma mi fa odiare Pannofino in quel momento non tanto Draco Malfoy perché lo fa veramente male ed è un po' fastidioso c'è da dire che lo alleggerisce andando avanti nel primo invece proprio una roba sì perché poi con la voce melifua com'era già il termine ogni tanto melifua melifua ecco ehi Potter dove stai andando così ma è fastidiosissimo no no così e lo leggeva così Pannofino sì sì così fastidiosissimo a parte queste cazzate ci vediamo la prossima ciao ciao Bovan ciao va beh insomma anche Deadpool ci fa cagare anche Deadpool a me l'uomo no ma in realtà è questo e allora è come No Way Home io No Way Home in realtà ho pianto l'ho visto quattro volte l'ho amato gli voglio bene però c'ha mille problemi no però una parte di me dice non è il terzo film di Holland poverino comunque lui ha fatto due film con la sua storia poi c'è l'evoluzione succedono delle cose cazzo muore zia May non è che non succede niente però veramente succede tutto in un bordello però è come cioè ho capito il concetto è come Civil War è stavo per dire è come Civil War è come magari è anche stato Doctor Strange voi dite che questi film di gruppo si sono infilati brutalmente hanno preso hanno preso il nome di un di un film singolo e e sono diventati dei film di gruppo cioè sarà un film bello ma una parte di me dice però i primi due Deadpool anche un po' più intimi che parlavano di lui sarebbe bello magari fosse stata una conclusione che invece magari magari ripeto non vedremo perché poi noi ci stiamo facendo mille pare e poi alla fine ci sarà una scena di cinque minuti con sta roba e tutto il resto sarà però sai me la stiamo pubblicizzando talmente tanto che temo che insomma i viaggi nel tempo divertenti alla fine del 2 come dice Mattia che erano la ciliegina sulla torta qua diventano la torta però poi magari sono più bellissimi si hanno preso quelle post credit lì che avevano messo di lui che andava in giro andava dal vecchio Deadpool andava da Lanterna Verde e tutto ci sarà la TVA probabilmente si si ci dovrebbe essere la TVA evidentemente ha fatto troppi viaggi nel tempo e si 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 tutto questo aspetto a me piace pure come l'hanno collegato nel senso hanno sfruttato infatti se poi lo collegano bene benissimo se poi dovevamo tenere cioè c'è anche la necessità virtù cioè ti sei ritrovato Deadpool Deadpool piace non lo vuoi buttare devi tenerlo anche nell'MCU allora a sto punto collegalo bene speriamo io no però ho capito quello che dite si è la stessa roba di appunto quei film che abbiamo citato è come se avessero fatto cioè non vi dico che è un Avengers ok però nel senso servirebbe un altro nome per fare queste cose qua si è un'altra roba un'altra cosa già ai tempi di Civil War anche giustamente io mi ricordo gente che diceva io però volevo un film su Cap non volevo Tony Stark tra le balle non volevo poi per carità un film bello qualche problemino secondo me è Civil War però capisco che magari è un film su entrambi volevo un terzo Cap sì sì tipo quello capisco che poi c'è il nome Civil War da sfruttare va bene però era tipo Capitan America contro Iron Batman contro Superman Capitan America contro Iron Man capito stesso anno fra l'altro sì stesso anno qua magari potrebbe essere Deadpool e Wolverine al posto di Deadpool 3 e così ti sa è un'altra cosa era come volevano fare l'X-Force dopo Deadpool 2 e boh Mattia no allora la premessa è quella già fatta ovviamente noi stiamo giudicando quello che ci viene propinato adesso ci sono anche le riprese sospese per colpa dello sciopero ovvio magari si tratterà di 20 minuti di film su due ore e mezza ci mancherebbe io e di un mio gusto personale mi sono un po' rotto le balle di vedere riaperti gli armadi con gli scheletri che saltano fuori guarda che belli lucidiamoli che qualche nostalgico lo troviamo cioè veramente mi sto stancando però sono gli ultimi è il 2023 oramai li fai tutti capito il multiverso no quando fu annunciato il multiverso io già non ero convintissimo perché nei fumetti il multiverso di solito porta tanta cacca non è un caso che a cicli continui il multiverso lo chiudano perché arrivano in un punto in cui non sappiamo più cosa farci non ci capiamo più niente ma tutto potevo pensare meno che sarebbe diventata non l'occasione per mostrare anche se ogni tanto è capitato versioni alternative dei personaggi non so riportare quelli vecchi una terra dove gli Avengers sono i cattivi una terra dove che uomo e donna no è diventata l'occasione di dirti quella roba lì che avevamo lasciato ve la ripresentiamo e passino gli Spider-Man e passi fare una scena secondo me non passa neanche ma quella degli Illuminati e The Flash basta basta ho capito quello che hai detto che palle andiamo avanti andiamo avanti io da Deadpool volevo una storia su Deadpool e adesso a me sembra che tanti i primi due film se li siano dimenticati perché nei primi due film se tu togli la componente metanarrativa ci sono delle storie semplici ma ci sono ci sono addirittura dei momenti introspettivi e drammatici adesso invece tutti vogliono lui che ammazza tutti ma sì quella sarà una gag quell'altra sarà una gag poi sarà un buddy movie bellissimo su Deadpool e Wolverine e questo è quello che spero cioè che che ci approfondiscono i due personaggi che tutto il resto è fuffa veramente per ridere per però già che si punti a livello di marketing solo su sta roba qui ma cosa vuol dire sarebbero tre film uguali ma il secondo uguale al primo non fatemi leggere delle idee cioè quindi tre Batman di Nolan sono tutti e tre uguali perché nel terzo non c'era la merda di multiverso poi non c'erano personaggi che non c'entravano un culo ma che vuol dire ma cosa vuol dire i tre element sono tutti uguali diciamo che sarebbe stato molto bello come dici te praticamente se avessero preso quel che è diventato la serie tv di what if con gli altri universi se avessero trovato l'escamotage per mostrarti quegli universi concordo cosa che secondo me in secret wars io spero in secret wars perché un tempo questa roba qua noi l'avevamo chiesta o la immaginavamo per secret wars ah torna elettra torna ghostwriter l'hanno fatto prima magari hanno scambiato le cose capito forse lo fanno qua e là vedremo delle varianti magari torna sì che veramente però davvero pronto a ricredermi perché sul serio magari sono dieci minuti e fanno ridere è finita lì cioè alla fine come doctor strange 2 dove la cosa era relegata in una parentesi secondo me abbastanza bizzarra però era lì poi si andava avanti che poi pare che quell'universo debba tornare totalmente diverso perché perché è giusto per fare una roba diversa per il gusto di farla diversa che vuol dire i tre guardiani della galassia di gun sono diversi no no sì ma hanno lo stesso schema sai che sono diversi raccontano storie diverse nel terzo guardiani c'era bisogno di metterci di metterci il multiverso eh no di personaggi che non c'entravano a fava che già warlock secondo me è un po' un'aggiunta posticcia c'era bisogno di warlock però nel senso basta saper raccontare queste sono le scappatoie di chi non ha un cazzo da raccontare e non sa cosa fare e allora ma sì buttaci Wolverine a posto tanto la gente va a vederlo è contenta basta che grognisci un po' che c'è un bel combattimento si scrive da solo eh non ti sei sforzato per nulla però c'è Wolverine mi metto io qua a scrivere una sceneggiatura c'è Wolverine no ecco vedi lo cito in chat anche quantomeni ha fatto che poi non è andato bene quantomeni ha fatto questa roba cioè a un certo punto ha detto basta non ti racconto più Ant-Man dei primi due no cioè facciamo diventare Avengers Kang ma in un altro mondo altre volte va bene No Way Home ma ovviamente certo cioè è difficile trovare la quadratura del cerchio io parlo per me quindi chi cavolo se ne frega io sono stufo sono veramente stufo ho visto il trailer di Blue Beetle dove c'è una vecchia col mitra che è orribile orribile dove mi raccontano dove mi raccontano tutto il film cazzo però io ho sentito l'ossigeno arrivare va che film c'è un eroe c'è un cattivo sotto questo aspetto sì va bene è molto capito dici è semplice è lineare e che bello è semplice è semplice lineare però sarà orribile esatto sì 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 però però era per fare un esempio ragazzi infatti questa cosa anche per far capire poi cioè Deadpool 3 io sono convinto che mi divertirà tanto e magari sarà bellissimo però io dico anche con le cose belle vedasi No Way Home che io ho adorato avrei preferito che No Way Home fosse stato il quarto film dopo un bel film dove Peter veniva braccato da tutti perché sapevano la sua identità invece vi faccio e vi faccio l'esempio perché mi dicono eh ma Deadpool entra nell'MCU come l'avrei fatto io col senno di poi stupido che non vuol dire niente visto che hanno detto che il marchi ingegno di Cable sarà molto importante sì che è la macchina del tempo si apre si apre con lui che arriva nell'MCU il film parla di lui che si deve ambientare nell'MCU e invece abbiamo il vecchiume Wolverine quello vecchio posso dimostrarcene uno nuovo cominciare a farcelo conoscere interagendo con Deadpool no no quello vecchio i mutanti quelli vecchi Gambit di Channing Tatum che cazzo c'era la gente che faceva la fila ti dirò io capisco quello che dici però più me lo stai descrivendo e più non vedo l'ora io non vedo anche a me fa ridere Gambit l'Electra di Jennifer Garner Daredevil i Fantastici 4 dovrebbero esserci di Team Story a meno uno o due sembra sempre che i film li ordinano i dottori c'è un dottore che arriva lì e gli dice il film dovete farlo così per forza e invece no potevano fare come volevano come volevano il film iniziava con ragazzi sapete che c'è? la Disney ci ha comprati adesso faccio parte dell'MCU vediamo com'è questo nuovo universo avventura di Deadpool nell'MCU stop ma adesso ci sarà Wanda Wanda di Terra 838 che la Fenice si scontrano poi ci sarà c'è da dire House of M House of M noi siamo cioè ci stiamo basando ovviamente sull'unica informazione che sappiamo e che loro ci vogliono dire ossia cioè questo qua sotto questo film è come se fosse un nuovo No Way Home nel senso a parte la trama ok il marketing è ci sono gli altri Spider-Man che poi là lo tenevano nascosto ma dato che non gli ha funzionato tenerlo nascosto qua è la prima cosa che ti dicono guarda ci sta Wolverine questa è la foto prima che la licchino questa è la foto ed è geniale sotto questo punto di vista meglio che farse la rubare lo stesso Wolverine magari per 10 minuti è capito ma non penso perché non lo sai però comunque magari è esatto però magari tutta la questione di andare a incontrare gli altri gli altri eroi del passato magari come detto come è stato per gli illuminati e il combattere magari nel vuoto dove c'è il logo della Fox è una cosa che occupa poco minutaggio nel film ma magari no però nel senso ovviamente è l'unica informazione che abbiamo quindi giustamente ci basiamo su quello quindi la fantasia viaggia però infatti la premessa è sempre quella magari ragazzi sono 5 minuti e poi il film che vi sto dicendo io o che mi piacerebbe vedere perché poi anche preferenze gusto io mi rendo conto che del multiverso non ne posso più o meglio non ne posso più del multiverso gestito così manca solo Dolph Lundgren che fa il punitore abbiamo passato tutti e basta infatti sarà un film che sarà amato da chi vuole il multiverso sarà amato da chi magari non ne può più perché magari sarà un enorme sfottò del multiverso anche perché secondo me può essere questa roba che poi può piacere o non piacere perché io dico sempre c'è chi può dirti no però mi fai il film dove sfotti il multiverso quando stai basando il tutto sul multiverso però lì sai un po' è un po' l'ulk dello show televisivo ancora vivo certo poraccio Luferrigno eh c'era Luferrigno è vivo c'è anche c'è anche il shulk compare compare in shulk cioè come essere umano però compare compariva anche nel film di Bruce ovviamente di Bruce Banner ma di Edward Norton dell'MCU quindi non so se vivo chi faceva Banner no ecco Bruce Banner non c'è più no lui morì proprio morì proprio negli anni 90 dopo aver fatto l'ultimo film infatti non potevano andare avanti perché l'attore morì nel 93 sì 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 mentre Hulk c'è per rigno stava nascendo dovevano fare il telefilm di Iron Man e di un'altra roba Thor che vogliono fare nascere il c'era Thor in uno special c'era Thor ma volevano proprio fare Daredevil sì volevano fare la serie su Tony Stark poi la morte di Bixby chiuse un po' tutti i piani vabbè è un mancato un mancato MCU ma passiamo sì a Secret Invasion come ultimo argomento di oggi episodio 3 e 4 tra l'altro perché la scorsa settimana non ne abbiamo parlato quindi se volete uniamo entrambe le cose e vi dirò che io fino al terzo episodio ero comunque ancora positivo su quel che era la serie ma dal quarto sono diventato molto più critico nel senso ho visto una faccia molto sorpresa a voi invece è l'opposto per voi per me il quarto è il più bello dopo il primo come episodio ok e in realtà sono positivo ancora io io sono mi sembra strana questa cosa che fino al terzo sia poi profisamente no allora non lo so per quale motivo ma a me anche il quarto non è dispiaciuto in sé per sé cioè nel senso la serie a me sta divertendo e sono curiosissimo di vedere quello che ci sarà nel quinto e nel sesto super curioso di vedere quello che sarà armor wars semplicemente nel quarto è come se ci fosse stata come se ci fosse stata una realizzazione nel senso la prima metà mi è piaciuta un botto quella di Nick Fury della moglie a me ha fatto impazzire per me una roba bellissima tra l'altro una roba bellissima in generale su me nell'MCU e poi tra due personaggi umani che a parte vabbè lei è Skrull ma comunque sono due esseri senza poteri quindi è meraviglioso per quanto mi riguarda però poi nel momento in cui tutto l'attacco finale con gli Skrull là ho detto boh ma sta roba non ha senso cioè voglio dire numero uno è una vabbè ci sono i soldati che non vedono niente cioè sono veramente cecati ci sta un alieno accanto a loro non notano nulla quello usa i poteri del sovra Skrull niente il grande piano di Gravik del facciamo finta che sono russi e vabbè che poi tra l'altro gli americani subito che notano la lingua che parlano i cattivi dicono ah sono russi l'alieno però non lo notano e inoltre poi questo grande piano come rientra nel grande piano il lasciare i cadavri degli Skrull morti a terra che si trasformano in verde bravo 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 ma poi ma poi come altra cosa è un finale uguale a quello della prima puntata con un personaggio che muore tra l'altro cioè in realtà è la terza volta che muore un personaggio però uno non è morto quindi va bene ok ma come seconda cosa è proprio uguale a livello di struttura finale di conseguenze che ha perché il primo episodio era gli Skrull fanno un attacco verso l'umanità ok in quel caso attaccando la Russia e in più uccidono un personaggio a noi caro e con la minaccia che nell'episodio successivo comunque in quel che sarebbe arrivato dopo si sarebbe scatenato alla potenza degli Skrull su quel che è la terra ipoteticamente il quarto episodio finisce con gli Skrull che fanno un attacco all'umanità con la minaccia che arriverà il loro grande piano e un personaggio amato che muore cioè letteralmente la stessa cosa e quindi se ci devo ragionare per quanto continuo a dire a me mi ha divertito anche se io vado a rileggere quello che ho scritto per gli episodi singoli a me mi hanno divertito tutti mi piacciono voglio continuare a vedere però vi dirò che per come era partito all'inizio ora dico boh ma stiamo andando da qualche parte sto fermo là nell'intento qua ovviamente c'è faccio l'inverso quindi prima attacco la Russia adesso attacco l'America chiaramente perché sono i russi ma poi quello che finisce finisce no no vabbè però era per dire l'intento è quello e ovviamente la morte di Talos credo serva soprattutto anche per Gaia per scatenarla al perché lei sarà quella che affronterà Gravik perché Nick Fury è poraccio quello quello sicuro lei tra l'altro sarà una Super Skrull buona cioè su quello concordo però anche lei lo dicevi te Mattia no cioè se tu vuoi se sei uno Skrull il capo degli Skrull che è e vuoi scatenare una guerra nucleare tra russi e americani non ti basta diventare i capi di stato russi e americani e scatenare una guerra Rudy che è il braccio destro del presidente Rudy scusate ogni volta mi confondo no perché prima abbiamo fatto una lezione su perché si chiama Rudy allora io sono andato vi giuro sono andato a rivedermi Iron Man per vedere il punto in cui io ho memorizzato mentalmente che dice Rudy il doppiatore italiano Angelo Maggi quando lo chiama non dice né Rudy né Rodi fa un mix strano ok e io nella mia mente l'ho sempre interpretato come una U quindi l'ho sempre detto Rudy però effettivamente dopo che voi me l'avete detto ascoltandolo è un mix più tendente alla O comunque però lui è il colonnello Rhodes sì sì assolutamente quello quello sì per me è sempre stato Rhodes ma Rudy non lo so perché comunque due volte è campione italiano di Rudy se vuoi chi coglie coglie ma se vuoi far scatenare la la guerra ti bastano quei personaggi là no sì 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 scusa era la puntata del mondo ma sì allora era chiedimi se sono felice di Aldo Giovanni e Giacomo e lo diciamo la terza puntata per me per me è stata mortale cioè veramente come guardare un fiume con l'acqua che passa per per 50 minuti tant'è vero che quando hai detto dobbiamo parlare di terza e quarta io ho detto aspetta succediamo nella terza ma sai che io sono andato a rileggermi quello che avevo scritto perché pur io non lo ricordavo io mi ricordavo solo sparano a Gaia finiva con quello sì per me sparano a Gaia la quarta l'ho trovata leggermente più gradevole però i i grandi problemi della serie sono due il primo che non è memorabile lo stiamo dimostrando non ha guizzi registici di scrittura se non veramente il dialogo tra Fury e la moglie bello quello tanto anche a me ma perché sono bravi anche loro come attori in originale poi il doppiaggio immagino sarà stato all'altezza io l'ho doppiato a me è piaciuto un botto poi quando cioè quando quando hanno si sono sparati io ho detto ma che cazzo ho visto proprio urlato così perché non capivo che cosa è poi mi è piaciuto un botto poi con la musica pure secondo me aiutava la tensione bellissimo per il resto è tutto molto blando e poi soprattutto lo so che poi uno le cose dovrebbe farsela andare bene ma è la marvel oh il piano del cattivo non ha il benché minimo senso la storia la trama di base non ha senso non è approfondita è superficiale e non appena ti fai due o tre domande ben mirate crolla tutto un milione di scroll sulla terra questo gruppo che no 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 noi gli umani ci stanno sulle balle eppure sono esperti di cultura pop mangiano il cibo umano senza problemi che scelgono volutamente di camuffarsi da sovietici bolshevichi lì nel campo quando potrebbero sostituire attori calciatori grandi manager potrebbero fare la bella vita tanto sono stronzi perché rapiscono le persone e no decidono di sostituire questi poveracci con il cattivo che dice no come diceva J.Taz il piano è quello di far scatenare le nazioni io però preparo i super scroll ma tu non vuoi mica farti scoprire e poi scusate quell'effetto speciale quando lui allunga il braccio è una cosa ma lui vuole che loro si scontrino in modo che poi dalle macerie dello stravigolato della debolezza lui poi arrivi con i super scroll e lui invece è arrivato subito l'attentato cioè da una parte a Mosca ha fatto saltare dei civili no no gli americani attacchiamo il presidente sono certo che filerà tutto alla grande cioè sicuramente non ci saranno uomini della sicurezza non ci sarà gente che ci sparerà contro e quindi se muore uno di noi si vede uno scroll per terra già che ci sono aspetta che c'è uno scroll lo ammazzo così rimane lì steso cioè nel caso i miei sopravvivano vi lasciamo un alieno in mezzo che qualche domandina la farà sorgere certo nel bene o nel male ma sì ma guarda dato do altra altra benzina sul fuoco anche il fatto di Fiori chi lo deve ammazzare la lei la moglie la moglie ma poi cioè infatti la pistola per dimostrare fedeltà per la fedeltà ma ma poi per come la presenta la presenta Rhodes cioè dice tipo tu non ti devi preoccupare del piano del piano di di Gravik di quello che dice Gravik perché sono io a dirti di ucciderlo cioè io l'ho vista quasi come se lui stesse andando quasi contro Gravik cioè come se non era nei piani se non fosse stato nei piani di Gravik il fatto di ucciderlo è come se lui voleva cioè perché il fatto di evidenziare sono io a dirti di ucciderlo è tipo lui vuole essere il nuovo il nuovo capo il nuovo super capo degli Skrull che può anche aver senso se poi vogliamo ragionare il fatto che comunque è una donna è una donna è vero è vero esatto e deve portare poi ad Arnold Wars è diversa a me l'ho fatto notare sono andato a vederli a me l'ho dato delle foto ma non è lei io ho detto boh no 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 sono andato a vederla e sono sono proprio fatti in modo diverso a parte il colore degli occhi se non erro è diverso ma proprio a livello di pelle e in versione Skrull è proprio diversa perché gli Skrull sono verdi ma hanno tutte quelle cose nere tipo non rughe però tutti dei lineamenti e sono completamente diversi tra l'altro anche qua è marketing però hanno proprio detto e ci piace farvi pensare se chissà in qualche film che avete visto Rodi non era il vero Rodi quando Rodi è diventato Skrull e dove sta quello vero? un minuto prima dell'inizio della serie è diventato uno Skrull o era più bravo o era più bravo a interpretarlo prima come a carattere se non sbaglio ne avevamo parlato ma non qua durante il mi sa quando uscì il secondo episodio mi era capitato un tweet che presentava un'idea che mi ha fatto ridere ma che ovviamente a livello pratico poi è infattibile però Rhodes sarebbe diventato uno Skrull da Iron Man 2 quando hanno cambiato attore sarebbe meraviglioso e nello scantinato trovano Terrence Howard legato sono io quello vero bellissimo lui purello che non ha mai c'era la cosa che guardava l'armatura argentana diceva la prossima volta mai più fatto niente mi è sempre dispiaciuto a me piaceva un botto non lo fanno ma se lo fanno diventa la serie Marvel più bella più bella di sempre perché già Joshi Hulk ero letteralmente un'altra persona quella gag era carina quando lui dice non ero cioè Edward Norton ah sì sì esatto quella era carina come cosa ecco se però fanno come ha detto io io che sono che lui banalmente Rodi è là nella base lì è un po' una stronzata cioè non mostrarmelo mai ma poi lui è là nella fila secondo me di sfuggita c'è un corpo che pare che pare quello che pare il suo si vede di profilo con il naso a me sembra lui poi può anche non esserlo quindi anche lui poi avrà le scorie radioattive addosso e muore questa è un'altra gran bella domanda come funziona a livello pratico il fatto di stare dentro una centrale nucleare di smessa boh perché per gli scroll ok ma per gli umani no in teoria è anche il modo in cui questa diventa una super scroll cioè che legge la testa di quella lì in 30 secondi ha attivato il macchinario ah più che altro penso penso che ora mi ci hai fatto pensare non ha senso questa cosa perché perché la scroll la dottoressa che cosa fa la scroll prende oppure aspetta magari ha senso in un altro modo no no ti spiego perché non ha senso perché da come te lo fanno capire questi hanno rapito una dottoressa esatto quello ti stavo per dire hanno preso una scroll le hanno fatto leggere la mente e già che ci sono ma prendi anche il suo aspetto mentre fai gli esperimenti nella base è infatti quello sto ragionando perché se ci fosse stata una scroll che ha preso il posto della dottoressa ha preso le conoscenze e poi la scroll con quelle conoscenze ha creato il super scroll allora non ha senso che poi le more del super scroll si trovino dentro il corpo originale altrimenti quello che hanno fatto è che hanno utilizzato la vera dottoressa e poi lì l'hanno messa semplicemente per tenerla in stasi e in prigioniera diciamo non sembrava per come agiva nella seconda puntata sembrava una molto anzi si guardava attorno aspetta non ci devono spiare però possono spiegarcela mancano due puntate vediamo magari veramente una prigioniera speriamo tra l'altro perché per niente tra l'altro io avevo inteso che loro cioè un conto sono i ricordi va bene un conto azionare un macchinario fantascientifico perché ti ricordi come si fa no c'è da dire che lì io potrei sia già tutto molto predisposto l'avevano già acceso però sì è il meno è il meno cioè se tutto il resto fosse scritto benissimo sta roba qua ma sì sono andati rapidi quindi abbiamo visto di peggio ci mancherebbe la quarta puntata devo dire che durando mezz'ora mi è passata meglio però io avrei voluto di più no io spero che le prossime puntate durino 20 minuti ciascuna non penso sai non lo so chiaro esempio di questa cosa non penso vadano ancora sotto a quel minutaggio però restano così secondo me secondo me l'ultima magari 40 minuti secondo me non torneranno più secondo me le han tagliate proprio perché hanno capito cioè non è che lo stiano facendo adesso però nulla mi vieta che un po' di lavoro di taglio sia anche in atto magari stanno capendo che le visualizzazioni sono basse hanno detto raga snelliamo un po' perché qua mi sa che non è stata che poi è vero cioè obiettivamente il livello di dati pare non sia stata accolta benissimo ma ci sta eh lo capisco anche è una serie con Fury con questa invasione qua che sembra che sembra non portare da nessuna parte poi perché è cioè è vero io mi domando sempre pure io concordo sul fatto che la serie sembri non fare nulla ok però poi c'è Armor Wars che è il sequel pure di Marvel e quindi che cosa che cosa deve succedere di così ma sai qual è la verità è che Armor Wars racconterà semplicemente Armor Wars ci racconterà di dell'eredità la legacy di Tony Stark che magari finisce in mano a qualcuno che non deve finire forse perché poi si dice che in realtà no è la gara tra adesso sembra sia la guerra Chris Krul anche nei 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 rumor cioè si dice che addirittura si lotteranno per avere l'Adamanti o le cose è cambiato tutto è Armor Wars improvvisamente però io credo che in realtà non servirà veramente a niente noi vedremo Rodi che dirà sì ho avuto un casino ma hanno sostituito un po' di traumi come in Iron Man 3 perché se ti sostituiscono e rimani in quel macchinario là cazzarola un trauma lo avrai chissà che succederà hai perso delle parti della tua vita i tuoi cari hanno visto un altro pensavano che eri tu credo e Rodi non c'ha famiglia vive negli alberghi stai ipotizzando che cioè mettiamo caso che loro decidano di di dirci che lui è diventato uno Skrull prima di Endgame tipo pure su me è troppo però immaginate lui si ritrova con tutto quel casino si ritrova magari oh magari lui attenzione però magari lui prima di Endgame mezz'ora prima della battaglia finale lui si risveglia e scopre che Stark è morto eh quello ti sto dicendo però è talmente bello che secondo me non lo fa perché porta porta mille implicazioni io mi baso sull'interpretazione perché in questa serie da quando apparso in tanti me compreso abbiamo detto ma non è mai stato caratterizzato così sto personaggio speriamo sia uno Skrull io mi ricordo la seconda speriamo sia uno Skrull in Falcon e Winter Soldier era il Roddy che abbiamo sempre visto per quello che diceva per come recitava lui per quello che diceva Falcon c'era proprio lui quindi secondo me la sostituzione c'è stata dieci minuti prima come con Ross dieci minuti prima all'inizio della serie così non dai fastidio a nessuno non rompi le balle che ha fatto i film prima e se in Armor Wars gli vuoi mettere un trauma glielo metti comunque perché comunque possono anche essere passati sei mesi da Falcon e Winter tre soldi era questo per sei mesi questo è stato sostituito a posto no no ma sono d'accordo anch'io e che sia marketing mi stuzzicava questa roba per il via del rapporto con Tony però ah beh ma però oh magari lo fanno dubito diventa troppo complicato diventa diventa troppo secondo me cioè hai visto come hanno gestito Ross non ne hanno più parlato sì no infatti ma da quanto tempo racconti esatto anche perché Maria Hill si trovava lì a Mosca o dove sì era Mosca comunque cioè lei stava lì perché perché collaborava sempre con Ross oppure no perché quando poi lui chiama lei lei sembra dice una frase risponde in un modo e sembra quasi sorpresa di ricevere la chiamata di Everett Ross quindi casualmente lei si trovava lì dove si trovava anche lui e poi teoricamente il vero Ross è fuggito da Black Panther 2 quindi anche lì no Black Panther 2 ora non ricordo l'ambientazione precisa ma penso dato che c'è il funerale di Challa ah no però aspettate il funerale di Challa è buono non mi ricordo quanto tempo è dopo comunque è da vedere da quel momento lì poi l'hanno rapito per poi prendere le sembianze forse no perché quello si fa scoprire subito magari se l'ha limitato a prendere il suo aspetto è scomparso non si sa che fino ha fatto ne approfitto però a questo punto come funziona cioè tipo Transformers ti guardo mi trasformo perché tutti quelli che ci hanno fatto vedere è sempre stato così è sempre stato così ma non ce l'hanno mai fatto vedere le uniche volte che ce l'hanno fatto vedere gli danno ah mica i tre scroll danno i tre file dicendo voi sarete questi tre in effetti forse e hanno le foto ah è vero forse basta quello loro per se toccano ti prendono anche i ricordi la memoria altrimenti io vedo J.Taz e divento lui hai ragione però hai ragione però nel momento in cui ci fanno vedere la prima volta i tizi messi là in stasi c'era lo scroll vecchietta sull'autobus dubito non sarò rapito una vecchietta in Capita Marvel facevi quello che volevi è vero ma sai perché secondo me aveva molto più senso quello di Capitan Marvel cioè però quel che dico è che quelli che hanno imprigionato lì subito prima di farteli vedere imprigionati c'è uno di loro che prima si inginocchia tipo lo tocca e gli prende l'aspetto e poi dopo che lo mettono nel surgelatore diciamo lo va a toccare e gli prende la memoria quindi qua hanno fatto la cosa che tu non la devi cioè non so perché abbiano fatto sta roba qui è da lì che mi è nata la cosa lì ci hanno fatto vedere che per trasformarti lo devi toccare quando hanno in mano i file ce l'hanno proprio sì 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 quello è vero secondo me lì era un momento di contatto del tipo comunque perché comunque non vogliono essere magari una trasformazione più performante un rito sì un po' più rituale che poi li devono sostituire quindi devono tenerli lì perché qua ci hanno raccontato che lei comunque ha preso il possesso della vita di quell'altra perché lei stava morendo hanno cercato quella cosa a me è piaciuta molto sinceramente perché noi ci chiedevamo ma questa qua comunque dove l'ha preso l'aspetto chi è cioè dov'è questa poveraccia e allora hanno dato un motivo nobile anche per non renderla e anche qui però altri non possono farlo cioè io rimango sempre perplexo quando dopo 30 anni c'è un milione di scroll dove sono cosa fanno poi i ribelli sono 20 scappati di casa nella base infatti la soluzione più semplice è vivere cioè quello che alla fine è quello che vuole che poi ecco un'altra cosa che a me non ha fatto impazzire è il grande piano di Talos quando Gaia le chiede qual è il tuo piano ma aiutiamo il governo poi diciamo vi abbiamo aiutato dateci un premio non mi sembra cosa che stanno facendo da 30 anni si esatto capito è la stessa roba quindi boh semplicemente perché ora il suo obiettivo non è più ottenere un pianeta ma è vivere sulla terra cosa che però potevano fare fin dall'inizio cioè poi capisco che magari dici lo vorresti fare nella tua pelle verde ma manco troppo perché in verità quando Gaia gli dice di vivere nella pelle verde nella sua pelle lui non sembra puntare a quello sembra puntare semplicemente a poter vivere in giro per la terra ma lo puoi già fare senza il permesso chi dice niente non lo so ma infatti è tutto un po' è tutto un po' strano siamo molto vicini ai Flag Smasher molto vicino molto solo che almeno questi delle cose le fanno cioè Gravik delle cose le fa magari stupide ma agisce mentre anche per sconvolgimenti di sceneggiatura i Flag Smasher hanno passato sei puntati in un cortile a dire delle cose ma madonna nulla mai batterà i cattivi inutili di di Miss Marvel i jean i jean stevitosi bellissimi i jean dimensione specchio no i jean ma poi l'altra cosa i pugnali rossi la setta che da secoli deve proteggere aspettiamo questo momento chi ce sta due tizi uno che ha cominciato l'altro ieri non sa fa niente va a fare il falò l'altro che muore subito dopo secoli si saranno anche rotti i coglioni di aspettare non c'è più nessuno tra l'altro non so se avete visto hanno rilasciato quelle delle scene tagliate di Miss Marvel su Disney Plus sono sei la scorsa settimana me le sono viste in dieci minuti ve le guardate tutte e ah un non me le ricordo più quasi sinceramente però una è con questo una scena tagliata fortuna che l'hanno tagliata è con è Kamala che prima di andare al falò sulla spiaggia non so se vi ricordate andava a un falò con il pugnale rosso ed era sera nel pomeriggio quindi prima di quella sera loro due sulla spiaggia giocavano a varie cose tipo andavano con il quad sulla sabbia oppure si mettevano a mangiare qualcosa sulla sulla spiaggia c'era un po' più di ma no perché c'era una canzone sotto quindi poi durava un minuto quindi non è che loro parlavano o altro era veramente niente poi c'era un'altra c'era poi c'era un'altra un'altra scena che mamma mia mi sono sentito a disagio davvero era troppo cringe come cosa era una scena alternativa di quando la ragazza con i capelli rossi viene salvata e poi racconta tutto nella mensa è una roba orribile hanno introdotto un personaggio troppo 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 esagerato e l'hanno tagliato infatti ma tutte le altre fine non servono a niente ma infatti secondo me visto che poi ha confermato fosse vivo io la scena dell'alto evoluzionario l'avrei tenuta nella cella a sto punto ma pure là capito ma sta cosa dice perché io io ho visto tutte le cose avevo fatto su un video perché avevo beccato sto spagnolo che aveva detto ragazzi guardate che ha fatto un'intervista con l'effettista gli ha detto ma l'alto evoluzionario alla fine lo portano via perché fa che senso ha che lo salvi e lo lasci morire che è una cosa che anche io mi sono chiesto no no ma infatti alla fine se guardate viene portato via infatti si vede se guardate però è una cosa che non saprai mai quindi a quel punto però a questo punto mettilo che lui è perché Gunn poi su Twitter si è imprigionato a Nowhere anche se c'era una scena ma non non ha senso è una cosa così importante che o me la non me la dici rimane un segreto fino a che poi un giorno non l'andare a riprendere tu mi farai rivedere quella scena ma magari con un altro punto di vista e mi vai a fare la rivelazione oppure una cosa così grossa se me la dici così non ha senso che la tagli ecco era come un pochettino però questa su me è peggio ma era come la roba di Blade in Eternals il fatto di lasciare il mistero che tu senti una voce che parla e poi dici ah si è Blade cazzo ma non mi lasciare il mistero fammelo vedere anche semplicemente lui si chiama tipo mi pare Brown come cognome il personaggio in sé di Blade quindi dato che lui diceva signor come si chiama Black Knight eh si è lui è comunque signor lui la spada è pericolosa e lui diceva si lo so signor Brown e finiva lì uno andava su Google chi è e tutti sapevano che era Blade nel caso in cui non l'aveste riconosciuto invece poi devi andare a riconoscere a sapere che la voce è quella di Marshall Ali che poi è una roba che senti solo in America e poi la regista ti deve dire ah si è lui e ti leva tutto quell'effetto di mistero non ha avuto senso è uguale qua cioè tu sei rimasto con la suspense che dice è vivo non è vivo boh chissà e poi dici no no è vivo però non ve l'abbiamo fatto vedere e poi vi lasciamo la scena tagliata Brooks forse non Brown Brooks avete ragione io leggo magari non l'hanno fatto vedere perché non esistono progetti futuri ma allora Gunn non dovrebbe dire che è un ingegniero esatto fa morire io all'inizio pensavo siccome devi stare molto attento per notarlo pensavo che fosse un'inquadratura che non potevano tagliare sì che a livello canonico fosse morto e che fosse rimasta quell'unica inquadratura di una versione alternativa perché all'inizio lo volevano tenere infatti c'è una scena tagliata però se poi Gunn ti conferma che l'hanno salvato cazzo l'hanno salvato sì sì no ma ovvio perché quella scena comunque c'è ma magari poi in futuro arriverà e lo nomineranno può essere tutto può essere secondo me no è tornato cazzo il capo là per terra con la testa che pulsava da Hulk bello non abbiamo ancora visto sono contento io guarda sono felicissimo il prossimo che voglio vedere confermato è Justin Hammer da Iron Man 2 quello lo voglio anch'io lui secondo me in Armor Wars dovrebbe esserci io lo vorrei finché era Armor Wars lui doveva in teoria c'è anche secondo la trama il problema è che adesso è diventata la guerra per l'impero per il celestiale però hanno risolto la scena post credit di Thor The Dark World perché la bestia di ghiaccio che si vedeva alla fine di Thor The Dark World che era rimasta sulla terra eccola qua viene usata gli scroll l'hanno usata per i poteri perché vedete che è l'istata che dettaglione però è vero a me questo aspetto qua ad esempio piace del riprendere tutte piccole cose mollate lì quando c'è quel dettaglio lì della madonna e poi dopo però non torna perché quello fa Var in Russia perché fa questo cioè a volte sembra boh è un po' c'è troppe domande troppe domande tra l'altro mi è venuto in mente è la moglie di Nick quando si incontrano al bar nel flashback della terza puntata mi sa citano Dracov che è il cattivo di Black Widow pure Black Widow sì i piani di Dracov anche lì ma perché è una citazione è buttata lì perché non è spiegata per niente però sta lì tipo noi sappiamo no io so delle vedove so quello che è successo sì però no questo non ce lo siamo detti perché era nella terza puntata c'è Talos con un certo punto dice a Fiori per ridimensionarlo un attimo ma guarda che tu sei diventato quello che sei grazie a noi che ti abbiamo detto tutto certo ci saremmo dimenticati dell'Hidra ti stavano anche ammazzando eh quella roba lì c'è un po' passata di mente però dai per il resto siamo stati bravissimi sì ah non era così il dialogo ecco secondo te i 16 Skrull sono quelli che c'erano lassù in Far From Home per tentare di giustificare cioè lui si è portato su solo con i cucini a sé no quella cosa no no per me bisogna provarci per me per quanto per quanto cioè che ama Electra al fin di Electra per quanto prima ho detto comunque c'è io ho criticato di più questo episodio che gli altri ma in verità ragionarci negli altri vi ricordate quanto ho rotto le palle sulle tempiste che mi sono andato a fare tutti i calcoli ma per quello mi sembrava strano che col quarto improvvisamente quarto per me è peggio è una presa di coscienza secondo me non è che ci sia qualcosa di più ma perché lì perché per me non lo so c'è uno Skrull può essere ma me ne sono reso conto quando ho detto vabbè ma è la stessa cosa del primo episodio e quindi ci ho ragionato sopra ho detto finisce allo stesso modo le premesse per l'episodio successivo sono le stesse e non è cambiato quasi niente certo c'è stata un'evoluzione di alcuni personaggi alcuni rapporti per carità assolutamente sì però la roba non è cambiata e le incongruenze non sono cambiate e tutto quel che era non è cambiato è rimasto il primo episodio per quanto mi riguarda e beh sì che era andato in là non lo so era iniziata bene ma ma sei come fanno a gestire sta roba per sei puntate anche la moglie personaggio per il poco tempo che la vediamo interessante ben scritto ma conti i fatti a cosa è servita a raccontarti un escamotage per raccontarti il passato di Fiori per approfondire Fiori sì e fare dei collegamenti agli scroll però rendila a questo punto un po' più integrata narrativamente cioè potevano metterla veramente nell'esercito di Gravik o magari nel consiglio cioè rendila più invece secondo me non la vedremo più io spero che risalti fuori no sicuro la vediamo la vediamo perché molto conclusivo quel dialogo c'è nei trailer me la ricordo una scena di lei che corre con la pistola che aveva preso quindi a meno che non è una scena tagliata da quell'episodio però lei che corre con la pistola un po' strana come scena tagliata in quel contesto quindi immagino che sia se torna tanto meglio almeno vanno a rispondere alla mia osservazione alla mia critica speriamo direi che per oggi è tutto abbiamo dei consigli della settimana io mi sa di no sì vai no aspetta 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 mattia noi abbiamo fatto un patto cioè prima di concludere voglio una parentesi su from io la devo ancora continuare avevo iniziato la prima stagione però considera che ogni volta che chiedo magari se c'è qualcuno che vuole che vuole suggerire qualche argomento mi chiedono sempre from da te e ora che è finita la seconda stagione mi sembra il momento perfetto per fare un'analisi finale di opinione sulla seconda stagione allora non voglio far correre mattia ma devo scappare a cena sarò brevissimo anch'io perché alle 21 e 30 starto con la live e muoio altrimenti se puoi andare magari scappo voglio bene tanto non ho consigli e from non l'ho vista quindi ciao a tutti belli brutti ciao 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 tanto vado veloce vai vai allora seconda stagione leggermente inferiore alla prima ma comunque molto molto godibile con anche alcuni picchi decisamente interessanti e il finale allora l'ultima puntata nella prima parte secondo me è un po' allungata ma le ultime sequenze sono favolose il finale del finale è fantastico ok c'è solo un potenziale problema in ottica futura ovvero io per primo ho detto ricorda Lost sì me lo ricordo infatti tu me l'hai venduta così sappilo e sempre di più cioè se siete dei fissati persino al finale della seconda stagione io ho pensato immediatamente una roba di Lost ho scoperto di non essere l'unico ok però c'è da dire va riconosciuto che in due stagioni non hanno risposto a nulla eh l'ho sentita questa cosa la cosa che dicono di Lost è che non è vera perché in Lost rispondevano qui in 20 puntate non hanno veramente chiuso nulla quindi mi stai dicendo io ho visto il primo episodio forse ho visto il secondo tu mi stai dicendo che non ti fanno capire perché ci sono assolutamente no e anzi ti aggiungono roba nella seconda stagione arriva un certo punto e dici ma che cazzo sta succedendo cioè il fatto di questa è la prima puntata il fatto dei mostri che arrivano di notte diventa una roba semplice a confronto di quanto è quello che viene dopo ok sì e a me continua a piacere un mondo però io vorrei una terza stagione un pochino più ho cominciato a chiudere qualcosina ok non dico tutto ma spiegato un po' anche perché visto che ci sarà lo sciopero degli attori che ci si mette diventa molto difficile ricordarsi tutto per fortuna i riassunti sono fatti bene ci sono quei tipici riassunti che ti fanno vedere il dettaglio eh te lo ricordi quindi sei sempre al pari ma ricordare tutto sta diventando complicato io ho quasi provato la tentazione di riguardarla prendendo appunti ah beh può essere può essere una bella idea più che altro sapendo già magari sono delle cose che quando le guardi la prima volta magari manco noti quel dettaglio dopo invece vai a scoprire che quel dettaglio era importante quindi quando lo riguardi eh anche io spero che vadano oltre la terza stagione però devono cominciare a chiudere un po' di parentesi perché Lost che ovviamente adesso viene ricordata in modo bizzarro funzionava anche tanto a macro parentesi la prima stagione parla di una situazione la seconda di un'altra quindi c'è tutto molto orizzontale la seconda stagione ha degli elementi nuovi ma assisti proprio a una progressione narrativa che è un fumo di cavolo sì non chiudono non chiudono al limite arricchiscono di dettagli ad esempio c'è un personaggio misterioso nella seconda stagione ho scoperto altre cose su di lui però per quanto riguarda le macro domande non ti soddisfano ma neanche a morire cioè ti tirano magari non hanno nemmeno loro le risposte il rischio è quello e fino a un certo punto mi è andata bene adesso con il finale della seconda stagione mi sono sentito di dire però ho cominciato un po' a farci capire un po' certo il finale lascia supporre che qualcosa lo dovranno spiegare per forza perché il finale è una svolta cioè davvero una svolta importante se l'ho capito perché c'è sempre anche lì un po' di mistero certo ma sembra che tutti l'abbiano capito come me o che io l'abbia capito come tutti e quindi lì è una bella svolta che per fortuna deve portare a delle risposte ok quindi rimango esaltato ma la definireste una serie horror a tratti si vero oppure secondo me però dato avendo visto poco non so se in generale allora secondo me più misteri che horror poi dipende dalla sensibilità di ognuno però dei frangenti inquietanti ci sono frangenti inquietanti sicuramente non è come l'host diciamo che l'host è un po' più no 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 l'host è proprio user friendly per tutta la famiglia qui un bambino se la fa sotto ha voglia certo consiglio della settimana quindi o vogliamo considerare from come ma consigliamo from benissimo ma benissimo consigliamo from che rimane che rimane consigliata si mi sa che l'avevi vista io mi sono recuperato finalmente The Beer su Disney Plus nella sezione non l'avevi vista me la sono recuperata e mi è piaciuta veramente tanto tra l'altro gli episodi durano circa una mezz'oretta tranne l'ultimo episodio che dura praticamente un'ora quindi come se avessero unito due episodi ha un finale che è un bel plot twist che non mi aspettavo per niente sinceramente cioè cambia tutte le possibilità diciamo è come se qua fosse un'introduzione a tutto quel che sarà e poi dopo la seconda stagione che arriverà ad agosto in Italia sarà qualcosa di sicuramente un po' più grosso però mi è piaciuta mi è piaciuta molto come storia ti fa percepire molto la pressione che magari hanno i cuochi in cucina e tutto e poi raccontano una una storia tra i vari ovviamente tra i vari personaggi della cucina che magari si odiano non si odiano cioè varie dinamiche personali e poi il fatto di vedere la cucina non lo so è una roba che quando la fanno bene mi piace sempre di vedere il cibo chi si inventa i nuovi piatti li devono impiattare li devono pulire capito? no questo piatto fa cacare via rifallo hai mai visto l'anime e anche un manga food wars? di nome si io non l'ho finito eh l'avevate consigliato se non sbaglio qualcuno l'aveva consigliato all'epoca lo guardavo con una che adesso è una mia ex quindi quando ci eravamo lasciati ho detto fanculo però adesso mi piacerebbe riprenderlo mi faceva venire una fame ma una fame ma è la stessa cosa io infatti me lo sono guardato solo e soltanto mentre mangiavo a cena a pranzo a colazione se no no perché ti va proprio a venire fame cioè anche solo a me che Masterchef mettono a fare anche a voglia infatti lo devo vedere mentre mangi un gelato o qualcosa sì sì no infatti però mi è piaciuto molto sono molto curioso della seconda stagione tra l'altro che sta andando bene perché in America sta andando su Hulu quindi sono sono molto curioso va bene allora un salutone grazie sempre per la compagnia spero ti sia divertito oggi sarò questo cambio tecnico di piattaforma ma penso dalla prossima tornerò di là tanto io su StreamYard mi sento a casa ma sì ma infatti ma noi prima usavamo quello e poi tra l'altro la cosa buffa di tutto ciò che ci ho pensato è che Victor mi spinse a passare a Melon Up che poi è diventata Talk Studio e oggi siamo tornati qua perché Victor aveva problemi tecnici su Melon Up e qua invece no e ah tra l'altro io lo sentivo di merda anche qua Victor ma lì si vede che striglia no lì proprio no lì proprio crashava ah ok perché era connesso dal telefono quasi sentiva che poppava vero faceva tipo eh sì 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 eh quello era ingestibile come cosa purtroppo va bene va bene un salutino alla prossima settimana ciao 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 allora ragazzi spero vi sia piaciuto il talk show di oggi oggi mega puntatona penso che sia ufficialmente forse forse la più lunga che abbiamo mai fatto forse comunque siamo sulle tre ore eh tra l'altro ovviamente è chiaro che abbiamo saltato eh un argomento principale ossia quello di Mission Impossible 7 perché come avete visto ragazzi siamo stati abbiamo non abbiamo mai smesso di parlare abbiamo parlato di tutto Mission Impossible a un certo punto ho detto va bene ne parleremo la prossima settimana quindi sappiate che Mission Impossible eh ne parleremo la prossima settimana e per il resto abbiamo citato qualsiasi cosa penso che sia uscito molto molto carino vi ricordo che il podcast è disponibile anche nelle varie piattaforme streaming cercando Zucu Berzo o poi anche su Youtube a partire da domani ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle scatush a Grazie per la visione!